Buon pomeriggio a tutti quanti in chat, buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio Jim Ryan. Ringraziamo subito, ciao Herman, ringraziamo subito Walone, ringraziamo Walone che per totale pena, perché non c'è un'altra giustificazione al mondo, sta facendo il ride di questa cosa. Ma perché gli facciamo pena? Pena, sì assolutamente, mica che mi fa pena lui! No, no, come dicevi non si capiva. Alessio oggi si è traccato benissimo! Oggi Alessio veramente è fantascientifico, secondo me oggi è fantascienza, è stato prima di tutto chiaramente a Milano Marittima, Cesenatico, tutti quei posti lì, perché quello è chiaramente il colorito di uno che è stato in vacanza da tutta una vita, come cantava noi. E chi è che cantava in vacanza da tutta una vita? Sono in vacanza da una vita, perché no? La tipa con la bassina! Perché devi sempre connotare in modo... Perché ti do una caratteristica fisica, non è body shaming, è una caratteristica fisica, se dico serino, uno che assomiglia a Cesare Cremonini. Irene Grandi potrebbe essere. Poi naturalmente è andato da Giacomo Urtis, il chirurgo plastico delle dive. Esatto! Assolutamente. Comunque è incredibile, è incredibile però questa cosa, perché la mia fisionomia e la mia bellezza esplode ogni tanto, ogni tanto è un po' più contrita. Perché? Perché secondo me sei come il basilico. Cioè ci sono dei momenti in cui hai visto che il basilico ha delle foglie bellissime. Mi hanno infilato una pompa nel culo e mi hanno infilato l'acqua. Esatto! E delle volte in cui, non so se ti capita, ma io non so se voi avete il basilico, certe volte magari ti sei scordato il giorno prima, vai lì e lo trovi che è proprio tutto avvizzito, terrificante. Basta che ti dimentichi un giorno di l'acqua. Sei fottuto. E tu sei come il basilico, secondo me. Forse è l'amore, è l'amore che mi... Sì, sì. È l'acqua dell'amore. È la pressione testicolare. Intanto confermiamo che assolutamente Gianluca Ualone lo inviteremo prima o poi al cortocircuito, ma ripeto, Gianluca lo abbiamo invitato in tantissime nostre live con enorme piacere e sicuramente capiterà l'occasione quanto prima. Infatti ha detto esplicitamente che è venuto sempre a Multiplay Moto Volentieri, non vuole venire al cortocircuito, anziché gli fa cagare. Gli fa pena. Ma pure secondo me. Pure secondo me. C'è una scelta precisa. È andato in tutte le rubriche, fra un po' fa il doppiatore per andare a doppio gioco, lì come cazzo si chiama la rubrica per i doppiatori. Piuttosto che venire al cortocircuito. Alessio, grazie per avermi così consigliato di investire sugli NFT che sono crollati del 90%, sono praticamente sull'astrico. C'è mia figlia con l'ultimo fiammifero in mano, considera. C'è tua figlia che raccoglie le monete da un centesimo quando compra il lato. C'è tua figlia che fuma, le mozziconi di sigaretta trovati per terra. Siccome monitoro la situazione, perché gran parte di... Sentiamo il monitoraggio di Alessio. Cioè, tu parti ovviamente da persona che non sa di quello che parla e sparato il 90% a caso. E hai citato gli NFT che non sono nemmeno quotati, quindi... Non solo, spiega anche un'altra cosa. Il loro valore. Il loro valore. Gli NFT non hanno un valore. Cioè, hanno un valore indicato. Comprate ragazzi in chat, comprate NFT che è veramente... Non si possono comprare gli NFT! Sì che si possono comprare, te li vendono. Te li vendono. Comunque, comunque, allora, volevo aggiungere anche un'altra informazione. Dice benissimo Alessio però, Francesco, che da questo punto di vista si vede che non sei un abituato alle criptovalute. Perché l'obiettivo è sempre, esclusivamente, poker face. Quando stai perdendo tantissimo e quando stai guadagnando tantissimo. Cioè, tu sei lì, devi essere sempre soddisfatto. Hai visto il Bitcoin che è andato al minimo storico degli ultimi quattro anni? Quando qualcuno ti richiede, fai, ma come fai ad essere così tranquilla di aver perso tutti quei soldi? Perché ricresceranno. Come i ristoratori che vanno da commercialista. Bravissimo. È una merda, loro sono sempre negativi. Non guadagniamo mai niente, roba del genere. A noi deve essere il contrario. Salutiamo tutti i ristoratori e evasori fiscali che ci seguono da casa. Quindi tu stai lì tranquillo e fai, capito, ma scusa, ma Dogecoin a meno 6.000% riaumenterà. Adesso ci metto più soldi sopra perché così dopo saranno ancora di più. È una grande opportunità per mettere i soldi. È una grande opportunità. È tutto così. È tutto sempre e soltanto ed esclusivamente così. Allora, io ne approfitto prima di tutto per salutare Valentina Nappi che in questo momento sta live. E per una volta abbiamo più numeri di lei. Ma guarda che non è che fa grandi numeri, vale. Dura pochissimo questa cosa qui, visto che non vuoi venire al cortocircuito. E lo dirò di nuovo. Valentina, sei invitata ufficialmente al cortocircuito. Per favore, clippate e mandate perché continua a dire che il cortocircuito le fa cagare e non si capisce perché. Comunque, oggi mi dispiace delle cuffie. Ma non ha più nulla da dire, Valentina. Non ha più nulla da dire. Non è vero. Non sono d'accordo. Clippate, clippate, poi tagliate a metà e lasciate soltanto mel. Tagliate qua. E viene di sicuro. Siete la sua voce e viene sicuro. Viene sicuro in tutti i sensi. Detto questa cosa qui. Allora, oggi ragazzi, qui lo dico senza rischio di smentire e vi chiedo di nuovo scusa per la mia cuffia. Oggi ci avviciniamo probabilmente a quella che sarà una delle puntate della storia. Cioè, me lo immagino, si studierà nei libri di italiano a scuola tra 15 anni. Ci saranno probabilmente corsi, anzi no, corsi, tesi di laurea, discussioni di tesi di laurea in cui si parlerà di questa puntata del cortocircuito. Perché prima di tutto è l'unica occasione in cui vedrete a video contemporaneamente Jim Ryan, Herman Wulst e Phil Spencer. Partiamo da questo presupposto che non sarà così facile rivederli a video tutti insieme. Non sarà, non capiterà mai sentirli parlare in italiano. Aggiungiamo anche questo, comunque un altro elemento che contraddistingue questa live. E a parlare, scusami, dell'annuncio finalmente arrivato di Switch Pro. Assolutamente no, non parleremo purtroppo di Switch Pro in questo momento, ma oggi come potrete vedere adesso veicolo il nostro sommario. Eccolo qui. Credere nelle generazioni. Dal God of War al Gran Turismo, l'incredibile dietrofront di Sony. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E poi, il caos E3 2021. Decine di conferenze e un calendario poco chiaro. Questi sono gli argomenti di quest'oggi. Topo, però la tua mancanza veramente di proprietà di linguaggio con quel tuo veicolare a caso, è veramente, sarebbe oggetto di studio secondo me. Ma anche voi non ne parleranno in tesi, ci faranno delle tesi di laurea? No, no, ci sono delle tesi di laurea su questa cosa. Guarda, ci pensavo l'altro giorno, perché mi sono imbattito, guarda tutte le volte che vado a vedere i commenti su YouTube, tu parli, perché tu parli sempre, e sotto lo dicono che è orto il cazzo. Perché parli poco invece. No, però lui parla sempre. Detto da Alessio proprio. Guarda, ti comincio a registrare, faccio, volevo fare una rubrica, voglio, io voglio un esponente, voglio un esponente dell'Accademia della Crusca che faccia una rubrica, per ogni cazzata che dici. Scusate, per voi si dice, si dice, non ho trovato risposta online, si dice le live o il live. Vincenzo utilizza sempre il live, ma per me live è il sostituto di diretta, è singolare, maschile o femminile, non singolare o plurale, analfadeta. Live come pneumatico, quindi è lo live. Ma poi, tra l'altro, adesso devi dire il live o la live, che vuol dire il live o le live. No, hai detto il live e le live. Hai detto le live. Per me si dice la live. Io ho visto quel bel film, la la live. Per Vincenzo è il live. Tutti, ha detto le, ha detto le, tutti quanti, ha detto le live, proprio, cioè c'è una chat intera di ha detto le live. Dillo a Vincenzo, che smetta di dire il live. Ma a parte che non è che... In live, forse. Non è che c'è un dibattito, in proposito, c'è un problema in merito. Per me si dice la live, però, cioè, per me può anche dire l'ulive, non è che mi succede qualcosa in proposito. E c'è chi lo dice, e c'è chi lo dice. Confermiamo. Allora, dicevo, allora, come, ragazzi, oggi veramente, cioè, per me è stata una settimana, si vede che è la settimana pre-3, è stata una settimana di orgasmi, di un, di, cioè, io ho avuto una trafila di messaggi su WhatsApp e Instagram di CVD, Come voleva si dimostrare veramente che non sono mai più finiti da allora, da inizio di questa settimana, con tutti gli annunci, tutti i reveal che sono venuti fuori dopo lo splendido Q&A di Herman Hulst sul PlayStation Blog. Io adoro, per me è un po' tipo, un po' tipo, non lo so, cioè... Valentina Nappi? No, no, nel senso, l'intervista di PlayStation fatta sul PlayStation Blog al capo di PlayStation, cioè, veramente il ministro della propaganda. E' come se noi intervistassimo Alessio. Esatto, esatto. Ma, senza neanche stare attenti a cosa dicono, scatenando le ire più funeste. Nessuno si è messo d'accordo, cioè, c'è stato, Jim Ryan che ha detto, sai, tu che stai facendo il PlayStation Blog, per favore, intervista uno di noi, segui la comunicazione di quello che dici, scegliete insieme le domande, scegliete insieme le risposte, ma ciò nonostante fate casino. Cioè, nonostante, guarda, è incredibile. Secondo me ormai, veramente, a Sony gli serve il ministro della propaganda e cultura, proprio, perché secondo me non c'è altra possibilità. Ragazzi, è stata... Il minkul pop. Il minkul pop, veramente, della cultura della propaganda e cultura popolare, com'era, ministro, manco me lo ricordo. Lo so, però, dobbiamo dire quello che dicevano loro. Allora, è stato... Il ministro della cultura popolare è il minkul pop. Pop, esatto. Ma non è il ministro della propaganda e della cultura popolare, è il ministro della propaganda. No, quello della propaganda probabilmente stai facendo riferimento al regime nazista. Ah, può essere, ti chiedo scusa. Allora, ragazzi... Come al solito tuo. Facci e martelli, lui è solo fasci e martelli. C'è poco da discutere, veramente è stata una roba incredibile questa settimana. Io non so da che punto vogliamo iniziare, riepilogo o volete parlare? Volete partire subito col dibattito? Perché, cioè... Riepiloga, riepiloga, poi teniamo il tempo. Facciamo un po' di riepilogo. Facciamo un po' di riepilogo. Vabbè, facciamo un po' di riepilogo partendo tendenzialmente dalle due cose più importanti. Poi magari ci possiamo allungare. Magari sotto vi tengo tutta l'intervista invece fatta proprio intera. Allora, chiaramente... Ocunque se fossi in Sony, perdonami, ma io ti querelerei per l'incredibile dietrofront di Sony. Cioè, guardate, lui si assume la responsabilità dei titoli. Soprattutto aggiungiamo anche un altro elemento. Perché non c'è stato nessun dietrofront. Non sai neanche dire querelerei. Cioè, hai detto querelerei, non si sa neanche come l'hai detto. Non è facile. Non è facile, è vero. Confermo che non è facile. Io adesso che ho provato a ridirlo non era facile. Allora, le notizie... Pierpaolo sembra un DJ di Ibiza. Oh, fa schifo, non ci posso fare nulla. Lo sai che sembra? Per l'Olanda è teleclassificazione. La faccia quella... Si, si, quello... Se gli girassi la palla con le lucine. Maurizio Seimandi? Maurizio Seimandi? No, quella, no. Il telegattone? C'era la palla? Il telegattone? No, no. Purtroppo, purtroppo, ragazzi, ho dimenticato le cuffie, quindi devo aspettare che i miei arrivino. Ho comprato un paio nuovi di auricolari. Non avevo altri auricolari per casa col minijack. Allora, dicevo, le due notizie clamorose sono chiaramente questa che state vedendo in questo momento. God of War 2, Ragnarok, rinviato ufficialmente al 2022. Ricordiamolo che fin dall'annuncio nessuno di noi aveva creduto all'uscita del 2021, tranne Cory Barrog, forse Jim Ryan e non so chi ha, forse voi che seguite il cortocircuito. No, no, puoi spendere anche una lancia a Cory Barrog che è sicuramente una persona di resta. Puoi spezzare la lancia. La lancia si spezza. Infatti ho detto spezzare una lancia. No, hai detto spendere la lancia. Hai detto spendere adesso, ma è veramente un best deal. Scusa, scusa, scusa. Puoi spezzare una lancia per Cory Barrog? Puoi per Cory Barrog? Perché sono certo che lui, da bravo sviluppatore, sarebbe onesto. E che tutte le volte che dicevano esce nel 2021, a lui gli si stringeva il culo, il cuore gli cascava. Lui aveva, purtroppo voi non vedete i racconti dell'ancella. Lui aveva la maschera, che c'hanno le ancelle, quelle quando non possono parlare, che gli chiudono la bocca. Lui era lì, prima di dirgli il 2021, gli prendono la maschera e lui non poteva parlare. Quindi questa cosa è incredibile, comunque ok, a posto. E l'altra notizia clamorosa agganciata è, ce l'hanno fatto credere per non si sa neanche più quanto tempo che sarebbe stata una ormai delle poche esclusive next gen. E invece arriva la conferma che anche questo lo continuiamo, ci credevate soltanto voi e qua secondo me neanche Cory Barrog? Che ovviamente uscirà anche su PlayStation 4, perché è una cosa scontata. Cioè nessuno potrà mai criticare la scelta di far uscire il secondo God of War sulla stessa piattaforma dove è uscito il primo. E soprattutto a fronte di centinaia di milioni di console, vai. Però Pierpaolo, per me la vera bomba del fatto che, siccome questo era scontato che fosse anche PS4, ma io non avrei messo la mano sul fuoco che vai, che GT7 sarebbe stato, perché per me quello sarebbe stato i tempi di sviluppo classici dei Gran Turismo. Dato che è sempre stata una valguardia tecnica sulle piattaforme dove si trovava, effettivamente fare il downgrade, dopo che c'è stata anche la dichiarazione successiva, che è una decisione presa di recente. Quindi loro sono partiti con l'idea di farlo solo in Excel, poi hanno detto, ma dai andiamo a incassare questi altri 140 milioni di console. Ma aggiungiamo un altro elemento che secondo me rende incredibile Gran Turismo 7, che anche qui, sulla data di uscita di Gran Turismo 7, non ci crede neanche Yamauchi. Cioè, quando uscirà Gran Turismo 7? Uscirà davvero l'anno prossimo come tutti Gran Turismo 7 è capace che arrivi fra quattro anni? Cioè, vi immaginate... E' per quello che per me è folle, per me è quello che è l'unico titolo veramente folle che non sia Next Gen. Ma questo per me è una dimostrazione inquietante del fatto che Sony abbia preso atto del fatto che la transizione sarà molto, molto più lunga di quello che avrebbe preveduto di parte. Sai cosa? Non è tanto un problema di PS5 che sta vendendo, nonostante le poche unità a disposizione, più di PS4. Di poco, ma più di PS4. E quello che, secondo me, ti ha fatto cambiare idea è questa scia lunga prevista di PlayStation 4 che non accenna a diminuire e sembra che le intenzioni di acquisto di una PS4 nei prossimi mesi siano comunque ancora piuttosto alti. Vuoi perché c'è un problema nel trovare PS5, spesso i prezzi sono altissimi in maniera artificiosa e poi anche perché comunque la gente deve un attimo rivedere cosa gli è rimasto in tasca. E quindi diciamo che c'è un pubblico ancora molto interessato a PS4 e non lo puoi sicuramente lasciare fuori dalla porta. Però come dicono, scusami per Paolo, una stronzata, ma come dicono i chat giustamente magari sono state fraintese le parole, loro hanno detto che Gran Turismo 7 sarà cross-gen ma sarà PS5, PS6, probabilmente. Questo è come quel bellissimo, io ho visto quel bellissimo meme che è girato fra i nostri commenti di Jim Ryan. Jim Ryan è stato frainteso, non ha detto crediamo nelle generazioni, ma diceva crediamo nelle generazioni dei profitti, che è bellissimo quel meme lì. Nella generazione dei profitti. E' bellissimo. Allora, qui secondo me come al solito vedo già la chat chiaramente impazzita. No, ma in realtà God of War non hanno mai detto che era esclusiva di PS5. Ragazzi, ce l'hanno fatto credere in tutti i modi fin dall'annuncio. Presentato con PS5. Io sento il fastidio dei vostri vetri mentre cercate di arrampicarvi, lo sento nonostante queste cuffie. Non ci sono state dichiarazioni, aspetta, siamo d'accordo, ma c'è malizia, c'è malizia. C'è una grande malizia, un'enorme malizia e aggiungo anche un altro elemento, perché secondo me ragazzi dovete pesantemente, bisogna pesantemente scindere tra la comunicazione più o meno maliziosa, tra quello che è stato mostrato, dove sicuramente Gran Turismo 7 è più colpevole perché è stato mostrato proprio come, è stato proprio detto come PS5 e chiaramente delle normalissime, ovvie, scontate, questioni di business e marketing, cioè di economico, giustissime. Questa cosa è per Paolo, l'ho detto ieri, questa cosa è che la gente si senta offesa o tradita. Tradita, tradita. Completamente fuori di testa. Folle, folle. La gente è folle. Scusami, ma per quale motivo tu sei tradito? In che modo tu sei stato tradito se c'è gente che ha al netto delle modifiche fatte al software, perché sarà più brutto, andrà meno veloce, avrà una risoluzione inferiore. Non capisco perché tu non voglia che qualcun altro che non può permettersi PS5, o che comunque non la trova in vendita, perché non può giocarci se si accontenta? Cioè qual è il problema? Esatto, e soprattutto, scusate, scusate, ma per me la cosa clamorosa che dovrebbe rassicurare gli utenti è stata la presentazione di Forbidden West. C'è la dimostrazione che saranno anche cross-gen. Non abbiamo idea di come gireranno su PS4, ma diamo per scontato che faranno un buon lavoro. Ma varrà la pena per chi se la potrà permettere, per chi ce l'avrà, di giocarlo su PS5. Esatto. Perché quella roba che abbiamo visto è stupefacente. Esatto, e non l'abbiamo vista girare su PS4, naturalmente. Poi c'è chi dice, eh, ma così non possono rivoluzionare la fisica di Gran Turismo. Ma, signori miei, signori, non è quella la leggen, diglielo. Posso darvi una carezza sul viso, come farebbe un frate a un bambino. Ma Gran Turismo non ha bisogno di rivoluzionare un bel niente. Gran Turismo 7, ormai Gran Turismo ha quella impostazione di ibrido perfetto tra realismo e arcade, che non va toccata. Ha già raggiunto la sua perfezione. Anzi... Gran Turismo 7 è il single player che non abbiamo avuto su PS4. No, dici benissimo, anzi, probabilmente più tocchi più fai danni, anzi, se probabilmente facessi Gran Turismo 7 con scritto è Gran Turismo 4 con la grafica migliore, avresti anche più vendite probabilmente. Quindi da quel punto di vista meno tocchi e meglio è. Per cui dicevo, bisogna chiaramente scendere. Io da un punto di vista economico, commerciale, posizionamento di mercato e tutto quanto, trovo non solo scontata, infatti lo ripetevamo da mesi e mesi e mesi. Era scemo quello che sembrava profilarsi prima. Esatto, era folle, e qui è la follia, l'idea di rompere con 150 milioni di VS4, non so quante ce ne saranno. 100, 150, vabbè, sicuramente più di 100 milioni, cioè rompere da un momento all'altro con decine e decine di milioni di console per fare giochi in esclusiva su una console nuova che non si trova, che si sta affaticando a trovare, che realisticamente ce ne potrebbero essere 20 sul mercato, 30, 50 sul mercato per quando usciranno questi titoli, eliminando tutti quelli, obbligando tutti quelli passati a fare il salto e quanti poi effettivamente te lo vanno a fare in quel momento. E' completamente senza senso. Lì il problema grosso è, di nuovo, appunto, la malizia. Ovvero la famosa storica dichiarazione di... Aspettate che ve la voglio andare a ricercare, se la riesco a ricercare, eccola qui. Questa famosissima dichiarazione, che questa davvero rimarrà per sempre nella storia di Jim Ryan, di Alessio Jim Ryan, crede nelle generazioni, tutto il famoso dibattito in cui Sony Jim Ryan si sono permessi di rispondere a una visione cross-platform di continuità di Xbox altamente criticata, perché il discorso tutto il caso di Halo Infinite terrificante e tutto il resto, ovvero, eh ma tutti sti giochi escono pure su Xbox One vecchissima, eccetera, eccetera. Sai che schifo faranno? Oltre che su Series X saranno bloccati. Lì, in quel momento, ci fu la comunicazione di Sony. Noi invece crediamo, noi crediamo nel cambio di generazione. C'è un momento in cui bisogna dare l'esclusiva PlayStation 5 perché dobbiamo far vedere... Che però sono arrivati, eh? Esatto, che andava visto nelle classiche dichiarazioni di un top manager che vanno tutte un po' soppesate, in realtà. Però, ripeto, io credo che non è che ci sia tanta malizia riguardo. Io penso che questo sia il frutto di questa comunicazione ondivaga che riflette i dubbi di un'azienda che sta cercando una sua nuova identità. L'abbiamo visto con le interviste di Cernia GQ che non ci avevano senso. Cioè, crede nelle generazioni. Secondo me non lo hanno smentito perché, comunque, in un modo o nell'altro, hanno tirato fuori delle esclusive PlayStation 5 che, guarda Microsoft, sta a zero ancora per certi diversi. Ma infatti il dibattito non è quello, ripetiamo, io la penso come te a metà. Perché, ribadisco, c'è una questione di malizia. Perché se tu, a quel punto, avessi risposto dicendo anche noi pensiamo che sia giusto fare un percorso cross-platform. E infatti Horizon, God of War, Gran Turismo, queste robe usciranno anche su PS4. Avevi fatto quello che la gente chiede. Sei stato trasparente? Sei stato coerente? Lo hai detto chiaramente? E vai avanti su quella tua strada? No. Loro hanno risposto dicendo Quelli sono idioti. Per noi, invece, è importante il cambio generazionale. Vi facciamo un po' di fumo su God of War che magari ci credete, ma noi non lo diciamo ufficialmente. Vi diciamo che Gran Turismo esce su PS5. Sì, sì. Comunque mi stimoli l'acquisto. Mi stimoli l'acquisto della console nuova. E poi a un certo punto dico Ok, ma io sono arrivato al 2022 e sta console nuova ancora non c'è una cosa per cui se non me la compravo non ci giocavo. Sì, è vero, c'è Returnal, c'è Demon's Souls, c'è Ratchet & Clank, ci mancherebbe altro. Però magari la gente, ecco, si aspettava God of War, Gran Turismo, tutta un'altra serie di robe. E comunque sono tutti i giochi che potevano girare tranquillamente su PS4. Perché la carattura è la stessa, è inutile prenderci in giro. Logico che giocare a Returnal a 25 fps, a 1080p senza quei caricamenti, senza quei particellari è un'altra cosa, senza il DualSense. Però chi vuole lo poteva fare. Ai tempi eravamo abituati a dei porting mostruosi. Giocavamo a Tekken 3 su Game Boy Advance o a Street Fighter 2 su Commodore 64 con 12 colori. è logico che nessuno, tutti preferivano la versione Super Nintendo o PC Engine, però c'era chi sito e muto se giocava quella per Commodore 64 perché quella poteva permettersi, quella c'aveva. Io voglio solo aggiungere una cosa che in realtà è a favore di Sony. Storicamente il miglior momento per lanciare nuove IP è il cambio di generazione. Le nuove macchine sono spesso legate alle nuove IP. Sappiamo dalle ultime notizie che Sony ha in forno una roba come 25 titoli con molte nuove IP. Ora, io mi aspetto che lì saltino fuori e speriamo proprio nelle tre o insomma speriamo nei prossimi momenti di comunicazione Sony quando annunceranno qualcosa di nuovo che emergeranno titoli esclusivi per PlayStation 5 proprio con nuove IP che sfruttino al meglio senza dover giustamente perché se God of War esce anche su PS4 per me è anche un vantaggio perché ti sei giocato il primo magari non te ne frega un cazzo di comprarti la prossima console il gioco ci può girare infatti era folle tutta quella gente che era convinta di essere uscito solo su PS5 io mi ricordo decine di volte di averlo detto ragazzi guardate che arriverà anche su PS4 perché nessuno crede all'ipotesi che chiudano che spezzino una roba così tra l'altro collegata perché chi ha giocato God of War cioè vede il 2 chiaramente inizierà da dove finita il primo cioè ma che senso avrebbe con quel motore con quell'engine e tutto che senso avrebbe? hanno cercato di replicare in qualche modo solo che Jim Ryan non ha lo stesso stile del team che c'era all'epoca quel piccolo short che pubblicarono su YouTube in cui mostravano come si prestano i giochi su PlayStation te lo ricordi? quello di fatto gli ha fatto vincere la prima parte di Console War però era una buffonata pure quella perché poi tutto quello che diceva Microsoft stupidamente alla fine è avvenuto anche su PlayStation 4 con i giochi che non puoi giocare se non sei online i vari check più o meno noiosi per giocare quando appunto ti si fotte la connessione insomma hanno provato a giocarsi quella carta là stavolta non è andata bene anche perché comunque però scusami però Seri le ingenuità nella comunicazione mentre Sony è stata maliziata in questo caso all'epoca Microsoft fu ingenua sono proprio stupida perché dire dire ormai sette anni fa otto anni fa la console deve essere sempre connessa altrimenti non era follia voi hai ragione che nei fatti aspetta ti lascio parlare hai ragione nel dire che nei fatti voi non cambiava un cazzo per l'una e l'altra però Xbox era andata a dire una roba che non può dire te lo dico ancora cioè rimarco questa cosa qua è talmente grave la situazione era grave che loro fecero tutto quel discorso senza avere comunque quella struttura che raccontavano in piedi cioè era tutto un discorso in divenire con la possibilità di ripetere i giochi esatto quella roba lì è stata totalmente folle per lanciare una console totalmente sfigata come concezione hardware come potenza tutto lì guarda ancora non escono esclusive per colpa di quegli anni allora esatto è tipo Stadia il cloud hai fatto Stadia cioè le dichiarazioni in stile Google Stadia cioè quello che sarà però dove quello che sarà era una merda cioè quindi ti hai detto ti prometto ti prometto la merda almeno almeno Stadia ci ha venduto un sogno esatto perché almeno Stadia ti dicevo ti prometto il paradiso e poi non l'ha mai fatto invece Microsoft ti faceva le conferenze dicendo ti prometto la merda ma neanche ce l'hai oggi devi pure aspettare quindi guardi anche la merda che arriva da lontano capito man mano si avvicina sempre di più quella è la folia di Microsoft quella è la folia ragazzi tutto sbagliato tutto sbagliato tutto sbagliato e mentre ti dicevo all'attento guarda la merda sta lontanissima sta arrivando giustamente dall'altra parte avevi e quello è giusto perché quello è il marketing avevi dall'altra parte ti accendeva il ventilatore esatto e dice no perché perché io me lo immagino in quella conferenza e mi immagino tutti quelli di Playstation di Sony che erano seduti a vedere la conferenza Microsoft erano lì tutti col cazzo di fuori a dire madonna adesso accendete i ventilatori perché adesso proprio gliela facciamo arrivare quel video lì l'hanno girato veramente in due minuti mentre guardavano la presentazione si 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 chiamagli uscita che abbiamo fatto questo video si si ma è chiaro quelli si sono alzati e l'hanno girato ma perché l'inquadratura era un mezzo busto un busto all'americano perché se si vedeva una roba fatta per il corridoio ma uscita 30 secondi dopo si ma perché se si vedeva fino al pacco avevano tutte e due l'erezione infinita perché sapevano che avevano vinto quella generazione praticamente cioè basta quella cosa lì è incredibile detto questa cosa qui quando Matrix che parlava piangendo questa è una novità si si ma tra l'altro aggiungiamo purtroppo è chiaro che quella roba lì Francesco hai detto benissimo da quel punto di vista secondo me l'errore cosmico è che sono state fatte delle scelte probabilmente di no di mercato proprio di struttura talmente importante che ancora oggi vediamo la merda vediamo la mancanza di esclusiva vediamo lo stesso Halo Infinite che è probabile che quello che è uscito sia vittima di qualcosa che è iniziato prima però questo è una dimostrazione che è anche pedagogico per il pubblico perché ti fa capire come le grandi industrie ma anche i grandi stati quando voti politicamente un'altra fazione comunque hanno una manovra molto lenta le cose non cambiano dal giorno alla notte tutto lo chiede del tempo il lavoro che hai fatto tu Phil è veramente incommiabile perché partire da lì partire da quella roba lì e arrivare dove sei arrivato oggi è stato un genio un visionario una persona concreta capace saremo trasparenti ha capito qual era l'unica cosa possibile e l'ha fatta e naturalmente ha trovato come sponda Nadella che ha dovuto convincere è dovuto andare là a dire voglio fare questa roba e dare se hai fatto da credito da uno che c'è dei cordori della borsa quelli potenti tra parentesi scusa c'è l'evento Microsoft lo seguite no non lo seguiamo no mi sa che cadeva un po' sfigato quello del Windows 10 delle novità Windows 10 secondo me non riusciamo a entrare perché forse è di notte molto tardi non mi ricordo c'era un po' una sfiga ma non c'è il calendario sottomano e quello sul futuro Windows 10 o si sovrapponeva con qualcos'altro o forse è più avanti non me lo ricordo c'è un evento figo del futuro di Windows però me lo sono segnato se vogliamo infilare io sono disponibile assolutamente perché è poco dopo le 3 ma non mi ricordo perché l'avevo me l'ero segnato è il 24 ah no non ci scusa ha detto una cazzata lo seguiremo mi chiedo perdono non ci sono io sì sì esatto perché purtroppo sono qui quel giorno quindi non si segue no no infatti ho sbagliato sto dicendo scusate mi sono confuso assolutamente lo seguiremo purtroppo io non ci sarò però assolutamente lo seguiremo quello sarà un evento molto interessante ma detto questo ritorniamo un attimo in argomento quindi il discorso PlayStation il discorso Sony il discorso appunto di questa che non è un reale dietro front sono scelte dicevo di marketing di business economiche giustissime ne voglio solo farvi una domanda purtroppo fatta un mille ore fa aspettate poi mi dici Francesco volevo farvi questa domanda che scrivo in chat non mi ricordo chi ed era di tanto tempo fa secondo voi può essere questo cambio questi cambi di idea frutto dello shortage frutto del periodo di quello che abbiamo vissuto in questo anno o già ce l'hanno in testa da sempre anche ma non solo e la finisco qua mi piace non avevo nient'altro da dire anche ma non solo perché naturalmente poi ci sono tante cose messe tutte insieme la malizia la confusione che sicuramente c'è stata e c'è ancora ci sono tutta una serie di fattori che hanno portato a questo ripeto senza dimenticare che comunque di roba solo PS5 anche se poteva girare su PS4 ne è uscita oggi secondo me God of War ha speso 300 milioni di dollari c'è 150 milioni delle persone che sono pronte a comprartelo ma è una cazzata non farlo ma com'è che si chiama il tipo di di Gran Turismo Yamauchi Yamauchi io mi immagino quando Yamauchi è andato a presentare Gran Turismo 7 per la PS5 l'hanno guardato e hanno detto ma sai che secondo me sta roba gira anche su PS4 secondo me non è un bel segnale in ogni caso i modelli sono quelli di sport ragazzi ma in realtà poi dicevano bene in chat che è bellissima l'ipotesi che considerato che Gran Turismo 7 sarà cross platform sicuramente GT8 sarà cross platform PS6 e PS5 sarà un'altra di quelle console Sony che non avrà mai il suo GT esclusivo secondo me c'è l'ipotesi secondo me quella roba non esiste quasi più ma tra PS5 però PS6 ci sarà ormai è un discorso in piena continuità prima lo accettano e meglio è fortunatamente l'hanno fatto dopo sei mesi del lancio della console quindi per me è tutto positivo è tutto positivo e ne approfitto anche per farvi un'altra domanda che vedo anche questa passare in chat che è un bello spunto di discussione ma a questo punto secondo voi PS5 è uscita troppo prima troppo presto a questo punto a chi lo sta chiedendo a voi due chiaramente non alla chat certo perché arriva dalla chat questa bella domanda che effettivamente è un bello spunto di discussione allora oggi aspetta fammi dire oggi allora oggi alla fine appunto abbiamo il Demon's Souls il Returnal titoli che diciamo chiaramente sì probabilmente potrebbero stare su PS4 abbiamo Ratchet & Clank che dobbiamo ancora vedere probabilmente quello sarà il primo vero step avanti e poi fino al 2022 tendenzialmente rischiamo di non avere più esclusivi ma non so se magari si inventano qualcosa nella seconda metà dell'anno difficile qualcosa per Natale secondo me è impossibile però sì è possibile ma non credo titoloni della Madonna pure per me uscirà qualcosa di esclusivo però dico quindi 2022 inoltre dobbiamo aspettare chissà quando per avere la prima esclusiva potentissima forse è uscita troppo presto no no perché la console non è giustificata dall'esclusiva potentissima è semplicemente dallo sfruttamento dell'hardware indipendentemente da che il prodotto sia esclusivo o meno però oltre al fatto effettivamente c'è stata un po' di scarsità c'è stato il covid comunque sono programmi l'uscita di una console che sono cominciati ben prima che si parlasse di pandemia uno e due in regime di monopolio avrebbero anche ragione a ritardare a fare uscire la console quando tutto è pronto e perfetto ma qui stiamo parlando di due grandi aziende che competono sul mercato c'è stato sempre un batti ribatti che annuncia prima chi esce prima chi esce dopo robe del genere non puoi l'abbiamo detto mille volte lasciare terreno libero a Xbox che era seconda tu sei la prima crogiolarti nella tua 140 milioni di PS4 e lasciare mercato aperto Xbox l'unica unica console sugli scaffali al Natale dell'uscita non era non era assolutamente pensato comunque poi magari con lo shortage scusami delle console che c'è stato potevi anche rimandare volendo ma di quanto avresti potuto rimandare non ha veramente senso un anno lo faceva uscire avresti rischiare un anno di vendita di Xbox nuova dai io sono contento anche per me vai scusa vai 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 scusami vai te no dicevo io sto facendo ti sto riportando una domanda a uno spunto di discussione non è un mio pensiero anche per me la tecnologia dovrebbe uscire il più spesso possibile quindi figuratevi per me è stata giustissima l'uscita vai Francesco scusami no doveva uscire secondo me hanno fatto bene uscire si sperava già alla fine del 2020 che la pandemia in qualche modo fosse non alla fine ma comunque che non riprendesse come poi ha ripreso all'inizio del 2021 quindi diciamo che il forecast era diverso comunque la gente non ha mai giocato tanto quanto in questi ultimi 15 mesi quindi il mondo dei videogiochi in questi 15 mesi ha vissuto una sua strana bipolarità da una parte abbiamo un pubblico molto reattivo ricettivo che non vede l'ora di comprare nuovi videogiochi perché per colpa di lockdown era chiuso a casa quindi grosse vendite grossa volontà di far uscire nuovi titoli ma l'impossibilità di farlo il più delle volte perché dovevano in qualche modo riorganizzarsi con lo smart working eccetera 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 quindi è una situazione un po' strana che sia uscita un po' troppo presto PlayStation 4 basta vedere che è ancora al momento senza sistema operativo questa è una battuta è una battuta ma è vero ma come dicono in chat cioè siamo arrivati ormai a 8 mesi e non hanno ancora abilitato l'SSD aggiuntivo che puoi montare dentro cioè comunque è importante quella roba lì c'è fescire una console che c'era in 8 mesi peccati di gioventù ci sono però bisogna anche prendere in considerazione il fatto che ad oggi le transizioni traumatiche e i veri salti del gradino non ci sono più per fortuna l'unico secondo me l'unico problema vero che c'è stato in questa transizione non è assolutamente la mancanza di software perché i due o tre giochi interessanti c'erano dal day one sono usciti poco dopo sta uscendo Ratchet è semplicemente lo shortage di console per chi voleva fare la transizione per chi aveva deciso non avevo comprato la PS4 però sai cosa la PS5 mi sconfì non trovarla sullo scaffale è l'unico problema che c'è stato nella distribuzione non la penuria di giochi esatto esatto anche perché sei mesi dentro PS4 io giocavo Assassin's Creed Black Flag a 60 fps e a Sticky to the man quindi non è che dici c'era Gilson che se lo potevano tenere e il resto era veramente poca roba però sei un cultore di NAC mi insegni che sei un cultore di NAC l'ho finita a livello difficile pensa talmente ero disperante non l'avevo Francesco aveva chiesto a Cerny ha platinato ha platinato Francesco aveva chiesto a Cerny se gli faceva il New Game Plus perché voleva rifare il gioco con delle abilità sbloccate voleva rifare tutto quanto con le abilità sbloccate no allora però devo dire una cosa importante che però adesso ha poco senso però rimane una cosa importante cioè perché parlavamo di Microsoft come poi gli hanno permesso di fare quello che Phil Spencer ha fatto certo è facile qui faccio una critica a tutto il mondo delle megacorp comprarsi MGM per apparire giovani e young smart comprarsi Bethesda quando hai notizie il miracolo di Microsoft nel 2020 profitti per 260 miliardi di euro in Europa nemmeno un centesimo di tasse è schifo la società di oggi la gente che non trova lavoro fermati e qui hai dei giganti che non ridanno nulla no no aspetta per me Microsoft questo potrebbe essere un discorso da fare a parte e qui mi piacerebbe avere un politico mi piacerebbe avere un politico onestamente in proposito esatto il problema non è neanche tanto Microsoft che è un problema è anche la comunità europea dello schifo quello schifo lì sono Amazon Booking cioè tutti quelli che fanno servizi di vendita pesante in Italia e non mettono cioè quella roba lì a me fa veramente scoppiare completamente la testa però tutto questo è difeso geopoliticamente dagli Stati Uniti e avallato da un'Europa confusissima che permette all'interno di prosperare di far prosperare le nazioni la merda proprio quella cosa veramente fa schifo fa schifo sono che Alessio non può parlarne perché no no non posso parlare io mi dissocio il difensore delle aziende che non pagano le tasse le corporazioni come le chiamate voi addirittura come se fossero le corporazioni le ha chiamate Francesco io non ho mai parlato di corporazioni megacor semplicemente agiscono come attori nazionali in una struttura in un contesto di riferimento se la legge lo permette loro fanno di tutto ma come fa anche se lì vada al commercialista vada al commercialista e dice posso scaricare posso scaricare le ziguli posso scaricare le ziguli semplicemente no quando dite che le aziende fanno schifo perché non pagano le tasse in Europa no perché nessuno viene a regalarti i soldi è uguale se non c'è un obbligo di legge è uguale che giudizio ha sulla mia capacità di spesa posso scaricare le ziguli esatto ma perché tra l'altro non lo sapevo che lo passano come dispositivo farmaceutico le ziguli è per quello perché capisci è una zona grigia mi fa mi faceva ridere quella cosa no allora è chiaro che lì lo sbaglio è sempre delle nazioni è sempre degli stati ed è sempre della comunità europea che per difende non solo l'Irlanda non ho idea che chi ci sta vorrei vedere che politico che politico chiami voglio un italiano competente che venga a dire queste cose ma non lo so ma qualcuno è come trovare l'intelligente in Parlamento qualcuno nella comunità europea qualche politico italiano che sta nella comunità europea che ci può dire perché c'è questa difesa oltranza dell'Irlanda che a me mi sfugge mi sfugge il concetto che però non è comunità europea no è tutta una follia è tutta una follia vabbè andiamo avanti detto questo discorso qui stavamo dicendo mi avete fatto anche perdere un attimo di filo ti dicono Alessio che con quella voce puoi sostituire Damiano dei Maneskin confermiamo abbiamo anche lo stesso sex appeal secondo me scopate anche uguale di Damiano Alessio mi da questa idea Damiano dei Maneskin è quell'incredibile somiglianza con Alessio Paglisani secondo me la quantità di rapporti di amplessi che avete avuto negli ultimi due anni sono paragonabili Alessio tu che dici? comunque senti non me ne frega un cazzo tu hai fatto un po' di botox Alessio perché ridi sei un po' Emilio Fede no ma guarda la fronte guarda la fronte no ma quando ridi guarda il taglio dell'occhio secondo me Alessio sarà uno di quelli che fra 25 anni 20 anni non si saprà accettare diventerà come Mickey Rourke e sarà un incrocio fra Mickey Rourke e Loredana Bertè secondo me scusa ma perché tu stai dando per scontato che mi sono fatto di botox no ma si vede sulla fronte qualcosa te la sei fatta ma io ho fatto niente ti sono scomparse le rughe sulla fronte secondo me qualcosa l'hai fatta non ho mai avuto le rughe sulla fronte poi dopo un po' scompaiono non ho mai avuto le rughe sulla fronte Alessio sulla fronte non le ho mai avute ma che sei una maiolica ma cammina sta cagata totale chiaramente hai fatto qualcosa detto questo ho detto secondo me sarà un incrocio fra Mickey Rourke e Loredana Bertè quello è il futuro di Alessio quindi bellissime gambe comunque assolutamente bellissime gambe su un viso di cui si può discutere un po' Donatella un po' Donatella Versace no? sì esatto pure tanto intanto lo stile è quello lì quando inizia a rifare no comunque dicevo ritornando a noi allora io volevo approfittare e rifaccio rimetto un attimo perché volevo secondo me merita proprio il passaggio punto per punto per vedere altre cose perché visto che parlavamo prima del tradimento c'è stato dentro mi assomiglia un po' Herman Hulst ho fatto bene a metterlo uguale l'incredibile somiglianza l'incredibile somiglianza di Pierpaolo con Herman Hulst tu Alessio non ce l'hai una foto così? no no non è uguale perché lui è di profilo ma girato secondo me te la dovresti fare una foto così Alessio sì perché ti dà un tono anche secondo me però secondo me mi traborda al seno se stringo se metto le braccia con il seno sì però vedi come lui secondo me se metti le mani bene sotto il petto come ce l'ha lui secondo me non si nota che è il seno o qualcuno può pensare che stai tenendo tu in su capito? i pettorali i pettorali esatto esatto allora qui abbiamo ovviamente l'intervista nasce con una lunghissima chiacchierata sul podcast ufficiale di Playstation gestito da Galeazzo Ciano ha fatto l'intervista a voce e qui state riportate soltanto degli stralci da questa intervista allora prima domanda assolutamente interessantissima vedete insomma continuano ad esserci giochi narrativi single player assolutamente si risponde Ermalast insomma single player c'è come chiedere continuerà ad esserci un pad insieme alla console continuerà a chiamarsi Playstation quindi assolutamente sì e ovviamente i giochi single player sono parte del nostro DNA poi ovviamente c'è stato il momento di parlare delle terze parti quindi abbiamo visto l'annuncio di Haven da Jade Raymond è un'altra parte un'altra manciata di veterani dell'industria e più di recente anche di Firewalk che anche quello è fatto da top games top names dell'industria come pensate che queste partnership rientrino nella visione dei Playstation Studios sia anche qua Herman bravissimo uomo Herman mi sa che ho scritto Herman infatti ho sbagliato scusate un attimo devo cambiarmi nome ma scusa Evan ha annunciato una collaborazione esclusiva con Playstation già è esclusivo il gioco da come l'hanno annunciato è Playstation 5 per ora non è mai stato detto altre versioni e lui ci credi in Jade Raymond o la tua fiducia ormai in realtà tantissimo io ci ho sempre creduto io Jade Raymond la Melandria e la Binetti ce l'ho sempre proprio qua c'è i poster qua proprio qua e giustamente come stava dicendo appunto è che bellissima risposta sono un po' tutti i Playstation Studios anche le terze parti richiamiamole le seconde parti cioè le terze parti che fanno le esclusive e ci sta poi c'è quello che ha detto prima Alessio ovvero ci puoi dire darci un'idea del numero di giochi che state sviluppando che Playstation Studios sta facendo e lui risponde di questi 25 titoli di cui metà quasi metà sono nuove IP quindi nuove proprietà intellettuali l'altra metà sono titoli che sono ambientati nei franchise di Playstation che ovviamente i fan già conoscono molto bene domanda su quanto sono importanti le nuove IP e ovviamente sono importantissime addirittura qui c'è stato questo reveal questo annuncio di Band Studio quelli di Days Gone che stanno lavorando su una nuova IP cioè la conferma che non stanno facendo il sequel ma stanno lavorando su una nuova IP questo potrebbe comunque lasciare aperta la porta di un sequel di Days Gone fatto da qualcun altro perché ovviamente questo non è mai da escludere questa è una domanda lunghissima totalmente che è partita con il concetto del quali sono state le difficoltà incontrate quest'anno e qui arrivano le bombe a mano quindi il problema del motion capture del performance capture che chiaramente in periodi di pandemia rende più complesso gestire gli incontri fra persone che devono stare fisicamente nello stesso posto e poi anche qui problemi che vanno a colpire Horizon Forbidden West e il prossimo God of War visto che entrambi hanno ovviamente performance capture la dichiarazione che per Horizon dovremmo farcela per questa stagione natalizia ancora qui Herman non conferma né smentisce l'ipotesi che il gioco possa slittare quindi aspettiamo tutti questa data di uscita hanno confermato successivamente che non è confermato esatto loro ce la stanno mettendo e ci provano loro ce la stanno mettendo tutta però non è ancora sicuro esattamente e per quanto riguarda God of War ecco qui abbiamo scelto di spostarlo di farlo slittare al prossimo anno ovviamente per assicurarci che Santa Monica riesca a fare il titolo di tutti i tempi scusami Herman va chiarita una cosa God of War non è stato posticipato era stato anticipato prima esatto confermiamo assolutamente quando l'hanno annunciato l'avevano anticipato momentaneamente anticipato l'avevano detto sarà momentaneamente anticipato anticipato confermiamo adesso è ritornata la sua data di uscita dopodiché vabbè qui ovviamente si parla anche di PS4 quanto sia importante ovviamente 110 milioni di console sono importanti l'abbiamo capito tutti e poi l'altro grande trattimento di questi mesi il PC come rientra nella visione generale dei PlayStation Studio e lui lo sottolinea siamo appena all'inizio con la nostra gestione del PC Horizon Zero Dawn è stato avuto un grandissimo successo e credo che ci sia dell'appetito per i giocatori che sono al di fuori dell'ecosistema PlayStation e che vogliono godersi questo incredibile portfolio di giochi che i fan di PlayStation si sono voluti per anni quindi anche qui l'ipotesi di titoli anche un po' più vecchiotti a questo punto pausa ti chiedo mentre God of War lo trovo molto probabile che aprò di su PC 100% come Gran Turismo lo vedresti mai 100% 100% Gran Turismo quando è che scade cioè perché tra il 2030 direi ve l'avevo detto nel 2020 no allora io ho detto Uncharted in tempi non sospetti già avevo detto che Uncharted The Last of Us e God of War li vedevo perfettamente vedo anche Gran Turismo perché il pubblico videogiocatore PC ha assolutamente senso devo essere molto sincero io onestamente un titolo come GT Sport secondo me sarebbe stato veramente perfetto per la community PC come tutti i giochi in centrale su multiplayer più peschi gente e meglio è non c'è niente da fare infatti GT Sport sarebbe stata una bomba perfetto perfetto poi super competitivo veramente cominciavi a implementarci tutti i volanti secondo me avrebbero veramente sbancato è che l'unico problema grosso di GT è che secondo me Polifoni è un team che non da in esterna non esternalizza una sua proprietà secondo me la vuole controllare penso si parli di mod e secondo me è troppo piccolo quindi secondo me il grande problema di GT è che non non hanno nessuno probabilmente che fisicamente si può mettere a fare la versione PC io confido che prima o poi qualcosa arrivi di grande secondo me non far uscire un gioco di guida su PC è veramente un peccato loro calibrano alla perfezione sull'upper certo prima era un'altra cosa con il Cell i motion engine oggi hai comunque un set of box che è un PC standardizzato quindi è più facile ma comunque se c'è una nuance loro la sfruttano al 200% sono piccoli sono lenti come Alessio in fondo e va avanti per Paolo c'è un folle di nome Pitrino che dice c'è scritto tutti i giochi arriveranno su PC no non c'è scritto tutti i giochi e poi c'è un'altra parte molto importante che è questo ovvero c'è scritto tutti i giochi arriveranno su PC perché uno sia Pitrino ma immagino così la voce o da mangicchio chiaramente molto bene dice voglio sottolineare che PlayStation rimarrà il posto migliore per giocare i titoli al lancio di PlayStation Studios ma valutiamo diamo valore anche ai giocatori PC pensa che figata è il posto migliore per giocare i titoli di PlayStation al lancio ed è teoricamente l'unico posto perché al lancio sono solo lì però è il posto migliore è il posto migliore non è l'unico è il migliore perché continueremo a guardare al momento giusto per lanciare ogni gioco e band però questo qui effettivamente potrebbe essere considerato una sorta di li lanciamo tutti continueremo a guardare al momento giusto per lanciare ogni gioco non ha detto Pitrino una cosa così stupida secondo me è ogni gioco che scegliamo di lanciare su PC chiaramente band studio ha appena rilasciato la versione PC di Days Gone ed è due anni dopo l'uscita di quella PS4 quindi il concetto è semplice ragazzi ed è giustissimo rassicura l'utenza comprate PlayStation se non volete aspettare un paio d'anni è giustissimo vogliamo raggiungere i nuovi giocatori guardate questo sottolineato è il sottolineato dei soldi questi sono i soldi dovrebbe essere in verde questo sottolineato non in blu vogliamo raggiungere i nuovi giocatori che non hanno ancora sperimentato le grandi storie i personaggi e i mondi che abbiamo costruito ed è così che si fanno i soldi nel 2021 ragazzi è una cosa normale giusta e che soprattutto come dice lui chiaramente non va a detrimento a deperimento a rovinamento di chi ha PlayStation perché arricchisce utenti PC non andrà non andrà a spese di costruire una line up eccitante di grandi giochi console quindi ragazzi questo questa questa proprio partigianeria folle del si rovina che senso ha comprare PlayStation se tanti giochi arrivano su PC è la stronzata più grande che vi potete raccontare da sempre perché non è che io compro PlayStation solo perché ho le esclusive l'ho detto milioni di volte il giocatore sceglie di non stare su PC perché il PC ha una rottura di cazzo perché il PC costa 4 volte una PlayStation cioè ci sono tanti motivi per cui uno sceglie PlayStation che non è solo perché c'è The Last of Us o perché c'è God of War ma anche perché magari io voglio giocare a titoli multipiattaforma ai titoli terze parti senza avere rotture di coglioni e voglio spendere 500 euro anche perché la grande maggioranza degli acquirenti PlayStation delle esclusive Sony non gliene fotte niente si giocano a Call of Duty Assassin's Creed e a FIFA e a FIFA quindi sono quelli i giochi più venduti ma chiaramente ribadisco non è che tutti si diventa giocatori PC ci vuole un impegno una disponibilità anche di spazio monetaria cioè c'è qualcosa dietro e quindi è giustissimo ci vuole facino parliamoci chiaro è giustissimo c'è tutto il pippone sul Giappone che non ci siamo mai dimenticati e tutta fandonia quello che diciamo in verità supportiamo tantissimo il Giappone guardate tipo poi l'iPhone Digital tra le altre cose oppure appunto la conferma che Asobi è diventato parte integrante del team insomma dei PlayStation Studios anche da da questo punto di vista e poi Herman chiude annunciando che vedremo altro Astro Astro vedremo qualcos'altro da Astro Bot VR naturalmente pure per me sarà gioco di lancio di PlayStation VR 2 e il ritorno di Astro insieme al Resident Evil 8 esatto gioco di lancio anche quello lì sono d'accordissimo e quindi è giusto cioè che cosa vedi di sbagliato in questa intervista Alessio c'è qualcosa di sbagliato in quello che ha detto Herman assolutamente nulla e anzi che hai detto tu Herman no va tutto benissimo ma no semplicemente c'è quella percezione assurda del tradimento e io invece volevo chiedervi una cosa in questo ipotetico futuro che diventerà sempre più reale Sony avrà la forza ha la forza con le sue grandissime IP di diventare un publisher cioè quando l'epoca delle console finirà perché non sarà fra 5 anni non sarà fra 10 anni ma prima o poi finirà se il mondo procede come deve procedere e ci saranno solo publisher tutti saranno all'Activision all'Ubisoft Sony diventerà la stessa cosa la stessa diventerà Sony Picture esatto perché perché come nel cinema cioè puoi vivere di produzione contenuti creazione dp licensing dp e tutto il corollario che ci sta intorno come le Disney e compagnia bella voi pervedete che Sony abbia già una massa critica tale per rimanere uno dei più importanti publisher in questo futuro cioè ha un patrimonio che è inestimabile 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 Microsoft lo deve di nuovo lo deve ricostruire assolutamente da quel punto ce lo ha da 100 anni e Sony ce lo ha da Sony lo ha ricostruito tra l'altro lo ha ricostruito anche in tempi abbastanza recenti a fine ciclo PS3 ha ricostruito ma come abbiamo detto la volta scorsa senza neanche sfruttarlo bene perché deve ancora mettere a fuoco forse mi permetto anche di dire una cosa veramente super controproducente come al solito nei miei confronti una delle mie sparate forse Sony anche rispetto a Nintendo ha un diciamo ha proprietà intellettuali che sono più facili da sganciare dalla propria piattaforma rispetto a Nintendo cioè Gran Turismo Gran Turismo potrebbe stare tranquillamente su Xbox e PC Uncharted ma tutti per me il 100% di quella roba potrebbe stare Nintendo alcune cose fuori dall'esclusività avrebbero meno successo come è successo a Sega come è successo a Sega certe IP che vengono viste in un certo modo in quanto esclusive perdono molto del loro fascino nel momento in cui l'esclusività accade è una roba psicologica veramente l'ABC eh ci sono una serie di cose che non sono legate al concetto della portabilità ma secondo me anche un po' legato proprio al target cioè Pokémon il Pokémon su PlayStation e su Xbox è ovvio che non vende però quanto potrebbe veramente vendere da giustificare la sparizione della piattaforma cioè secondo me Sony ha una strada un po' più semplice su quel fronte rispetto a una Nintendo poi di nuovo è chiaro che se uscisse Zelda su PlayStation e Xbox venderebbe all'infinito nessuno dice diversamente però forse ci vedo più affine su questa perda di cosa scusami secondo me in questo scenario futuristico e fantascientifico quella percezione di esclusività la potrai dare con la proprietà della piattaforma di distribuzione nel senso come Disney con Disney Plus Nintendo potrà avere il suo abbonamento Nintendo cioè i giochi Nintendo li giochi dappertutto però solo col suo abbonamento proprietario non mischiati a catalogo con i giochi di Steam per dire sì sì ci può stare e lì la percezione di esclusività ancora potrebbe mantenersi alimentarsi comunque sono sconvolto da una diatriba in chat innescata da una critica alla faccia di Aloy sono un po' sconvolto Aloy e allora da questo punto di vista ripeto quindi io condivido perfettamente quello che ha detto Alessio cioè sono parole di un visionario con un grandissimo polso nel business quelle di Herman Alst perché ripetiamo non credo sia un caso che sia stato messo lui a capo di tutti i Playstation Studios veramente la persona probabilmente più competente più in grado di rivoluzionare un mercato ricordiamo Guerrilla di Guerrilla di software di Killzone Guerrilla di Horizon cioè tutta la componente tecnica lo sviluppo Guerrilla è sempre stato un grandissimo team di intercomunicazione tecnologica con tutti gli altri team di Playstation un po' come ha fatto Cerny un po' come ha fatto in piccola parte anche Naughty Dog cioè è una persona che chiaramente sa come tenere le fila di una roba del genere e in questa intervista è un'intervista proprio di una persona che concretizza però però in un contesto lo ribadiamo perché non è che adesso Sony è salva per le parole di Herman cioè quella malizia Sony se la deve tirare via dalle valle quella ha rotto il cazzo perché altrimenti è un problema per cui effettivamente far perdere valore al brand più che altro sta cominciando a incasellare diversi momenti di comunicazioni che stanno facendo infastidire la sua community perché Mone comincia a mettere uno dopo l'altro che stanno cominciando a dare fastidio perché i post orribili orripilanti li condanneremo per tutta la vita a Santa Monica e a God of War agli account twitter in cui tutta la gente dovete morire dovete chiudere quell'altra quella cosa terrificante Alana Pierce ho letto ti devono stuprare cioè la gente ha chiaramente una malattia quella è la malattia però chiaramente quando ne comincia a accumulare tanti è perché chiaramente stai dando qualche cosa che sta facendo incazzare non la sto giustificando quando stai facendo bene beh insomma insomma stai cominciando a far incazzare la gente non so cosa sei convinto quella è gente che se ne può fare tranquillamente a meno questo è ovvio questo è scontato andrebbe veramente colpita sul film Alana Pierce come è stata coinvolta in questa cosa ricordiamo perché lei è la sceneggiatrice è la sceneggiatrice di God of War quindi c'è quel messaggio terrificante c'è quel messaggio terrificante in cui dicono guardate il caso sei stata assunta un anno fa e adesso sei stata assunta di recente adesso con dovore slittato non dovresti perdere a fare mi ricordo delle robe bruttissime dovresti perdere a fare le live su Twitch che ti possano stuprare quelle robe veramente per me devi essere meno mato per scrivere quella roba lì purtroppo è veramente un problema gravissimo proprio quello ci sta assolutamente allora ragazzi io qui in attesa due splendide persone che purtroppo non sono Miyamoto e infatti questo vi stavo chiedendo cosa vogliamo fare vogliamo fare vogliamo fare li faccio entrare solo per fargli parlare con i solo per fargli sentire i vocali fargli sentire un imbarazzo con i vocali ma che imbarazzo sarà Vincenzo e ma perché voi non li vedete voi non li vedete no non li vede nessuno ah figo no il pubblico non li può vedere io li posso vedere assolutamente allora li veicolerò li farò entrare in questo momento solo per sentirmi a proposito quella parola mi piace oggi veicolerò non so per quale motivo quindi buon pomeriggio alla nostra Giordana buon pomeriggio aspetta che ti smuto grande Jade mi dice mi dice che non ti posso smutare perché vi scelto di mutarti no perché vi sono mutati sì esatto esatto buon pomeriggio e l'altro chi è? e l'altro è quello qui il nostro Vincenzo anche a te non ti posso smutare perché hai scelto che non ti puoi nessuno ti può smutare è incredibile è bellissima cioè se ti provo a smutare mi dice che hai scelto di non essere smutato cioè è una cosa incredibile però senti devi rispettare è la mia scelta infatti vedi ti sei rimutato adesso però perché ti sei che stai facendo? niente avevo scelto di mutare hai scelto mia moto perché non hai avuto il coraggio di mettere Ivata perché per morte per la sua morte bellissimo libro compratelo Askiwata faceva cagare questa scelta ma neanche mi è venuta in mente considera Alessio ho evitato ah perché gliel'hai dato tu il nome Pierpaolo sì sì figurate se sono così megalomane allora sì per pura ignoranza cosa avresti scelto Vincenzo? ma cosa pure ignoranza? per chi pure ignoranza? proprio le parole random proprio Alessio cosa avresti chiesto Vincenzo? cosa avresti che voluto? ma sai che mi accorgo soltanto vi stavo seguendo da un po' e vi stavo ascoltando e mi accorgo solo adesso della gag dei dei sottopancia cambiati è molto bella e cosa avresti scelto Vincenzo? Jade Raymond no è già preso mi spiace è già preso è già preso per me ti stava bene il tipo il producer anche di Google Stadia quello che si era andato di recente non mi ricordo come si chiama Power Invincible Max Invincible come si chiama quello lì? ma chi è Max Invincible? no c'è uno quel tizio di dai Vincenzo se lo ricorda di sicuro quello di Google che c'ha quando me da supereroe ma Capitan Power ti stai confondendo scusa chi era Max Power? era Max Power secondo me no no non era Max Power ma quello non era uno pseudonimo di Max Felicitas Max Felicitas c'è c'è un tizio di Google Stadia che ha un nome tipo da supereroe non è Max Power ma è tipo Justice tipo Kevin Justice John Justice era una roba Raffaele dice John Justice John Justice cioè John Justice è chiaramente un supereroe sì sì c'ha quel nome lì per me devi essere un supereroe John Justice per me pensa adesso se ti fossi chiamato John Justice pensa che figata metti gli ospiti in cima e poi partiamo con i vocali non posso perché posso dividere tre e due non posso mettere due e tre comunque vi abbiamo fatto entrare in diretta prima dei vocali no mi piace molto però vorrego darvi la giusta la giusta visibilità vi abbiamo fatto entrare prima dei vocali proprio per farvi sentire in imbarazzo grazie assolutamente per farvi sentire i vocali quindi iniziamo in questo momento silenzio grazie un attimo solo che mi assicuro che tutto funzioni correttamente perché altrimenti come al solito tutto non funziona correttamente sigla sì un attimo solo max help care c'è uno alla google dice che la vuole bella raga sono colui che manda sempre canzoni aspettate scusate era in due per bella raga sono colui che manda sempre canzoni questo pezzo è dedicato a tutti questi cazzoni c'è so sexy son mici oppure franco da solanas anche quello dal getto quello condizione strana c'è chi parla in rima c'è pure un po' di figa con le escorti Alessio c'è Serino perplesso comunque a parte tutto siamo quasi tutti bravi ora grande Pierpa dai giù coi vocali ok allora partiamo i giapponesi non è presente i giapponesi che fanno con i glow stick esatto vado vado non si sente? no Topolino non si sente oggi non si sente? no molto basso Topolino eh perché era solo è come se l'ha fatto una cosa strana e si sente solo su una cuffia niente mi dispiace dovrò passare perché era molto bello Topolino dovrei rimandarlo ma l'ha mandato strano però lo immaginiamo esatto ragazzi sono Franco Damari Bintau niente stasera sto pomeriggio mentre facevo la commissione mi è venuta in mente una domanda intelligente da fare e quindi sto per chiedervi questa cosa importantissima però cazzo è finito il tempo eh vabbè questa è una vecchia gag andiamo avanti ciao ragazzi ho sentito dire mi è giunta a voce che Pianesani lavori come trans al welcome in Austria voi ne sapete qualcosa? mi hanno detto che è stato avvistato lì ecco grazie puoi confermare o smentire adesso? no non è un lavoro è un hobby lo faccio per piacere ma fai il paglione sentite il paglione non lo so è tipo l'obiettivo nel tiro con l'arco ma non si chiama paglione ma chi è sta cazzata? non l'ho mai sentita guardate le facce guardate le facce di Giordano e Vincenzo no io vorrei ricordarvi io vorrei ricordare alla nostra gentile clientela che io adesso ho il potere di chiuderla questa merda quindi state attenti vado ciao siccome ho fatto il vaccino con dentro il chip di Microsoft posso avere adesso lo sconto col Game Pass? io chiedo ciao allora Alessio inizia il tuo dibattito è lui è il nostro amico è buono è un amico è Luca è Luca che sta migliorando cioè aspetta però la domanda era talmente idiota che penso che fosse uno che lo stava imitando perché non posso credere che i problemi siano passati dalla logopedia dalla logopedia al cervello no è che la cosa è che era talmente idiota poteva mettere la domanda era talmente idiota che poteva mettere un'altra software house a questo punto non proprio quella con tutte queste difficoltà che c'è sia la R che la S così vicina ma perché in America l'unica cosa che è in America per caso col Game Pass ti danno col vaccino ti danno uno sconto sul Game Pass sì perché ti mettono il chip di Microsoft eh sì comunque Microsoft siccome ti mette il chip di Bill Gates no no a parte le gag effettivamente in America ci sono degli incentivi economici per vaccinarsi a questo punto perché hanno raggiunto il tetto delle persone sane di mente e devono incentivare le altre persone puoi prendere tre caffè due muffin da una parte magari c'è anche quello legato al Microsoft ti danno la birra il regalo no? sopra i 21 anni adesso in Carolina ce ne sono tantissime comunque a proposito di Microsoft ma che bella la notizia anche lì è caduta questa grande questo grande inganno di Bill Gates che decide di andare in pensione per lasciare il post agli altri invece è sempre una questione è sempre la solita antica questione anche Bill è caduto sulla figlia grande Bill uno di noi ma perché che c'entra? poi cosa c'entra? parliamo di aziende che dicono bugie che questi attori ma che c'entra? e beh anche Bill Gates alla fine è uscito fuori che non è che sembra sto grande eh alla fine vabbè ho capito lui mi è appena arrivato un messaggio a proposito di vaccini io non ce lo facevo Bill mi hanno rimbalzato io no non ti hanno accettato? no mi dice che ci sono errori di compilazione o mancanza di requisiti per la categoria ma per il vaccino? e la categoria era 40-49 anni cioè che cazzo di categoria è? che requisito deve avere? a parte l'età ma non è che gli hai mandato una foto e loro stessi dicono che è impossibile che tu abbia fra 40-49 anni sono troppo sono troppo giovane no è troppo vecchio adesso fanno solo i 40-49 quindi dicono dovevi andare nella categoria 60-69 comunque guarda quando ride lo vedi che quando ride sembra come si chiama Gazza il cacciatore ha chiaramente fatto qualcosa di botulino perché non è possibile cioè chiaramente si è deformata la faccia vado avanti ragazzi è Polale intervento al volo Ale ma tu come fai a dire a Pierpaolo che dovrebbe fare un corso di edizione quando fai tartarighi alla tartaruga con più mi avvicinavo con più mi viene l'ansia Alessio forse serve più a te un abbraccio a tutti ragazzi un abbraccio si scherza ovviamente ma io metto se io metto trasporto il mio cervello va più veloce della mia lingua sono due problemi completamente diversi se ho il tempo se avessi il tempo di parlare senza qualcuno che mi rompe le palle riuscirei a trovare sempre le parole giuste e avere il ritmo giusto perfetto grazie dell'informazione peccato che non succede oggi è una domanda per Pierpaolo perché c'è Pierpaolo in giro vado ciao ragazzi oggi è una domanda per Pierpaolo ma perché spesso all'inizio di delle puntate dici che la puntata sarà incredibile ma puntate normali non ne fate no ragazzi non si possono fare puntate normali è solamente la fantascienza per contratto vado avanti le ultime tre poi sentiamo Vincenzo Giordano dice che tu faccia la domanda perché evidentemente non hai capito l'eccezionalità di quello che stai grazie posso fare play grazie vi volevo chiedere secondo voi in queste versioni PS4 diciamo di giochi come Horizon 2 o God of War 2 vedremo anche dei tagli contenutistici o saranno lo stesso identico gioco solo magari su PS4 castrato a livello tecnico scusa questo è un pazzo questo è un pazzo visto Vincenzo pensa che il multiplayer risponde pure secondo me secondo noi io non so io non so più come dirlo e per da questo punto di vista sono contento che ci sia anche Giordana allora ragazzi se fate se volete risposte serie a domande che riguardano i videogiochi non è questa la rubrica è il multiplayer risponde con Vincenzo al limite il 16 bit con Francesco ma al limite al limite ma guarda al limite al limite posso dire castrato perché mi fanno ridere i doppi sensi si è castrato è castrato solo per questo possiamo confermare Vincenzo? Vincenzo non conferma e si spegne ogni po' avevo capito possiamo fermare Vincenzo cosa devo fermare? l'ultime due l'ultime due è molto bella questa cosa qui effettivamente ma perché l'albero dell'arancio è triangolare ma che cazzo dice? di sicuro non è tondo è un albero di sicuro il logopelista non è botanico logopelista adesso è diventato logopelista ma tu ormai hai perso completamente la dizione ma no è che avendo gonfiato i lineamenti lo sai cosa ha fatto a tirare? non ho più il controllo della lingua incredibile logopelista è proprio la cosa la stilista sì è la Versace è diventata come Donatella Versace confermiamo vado avanti l'ultima questa è la novità tv 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 questa ti imitava con Matrix Francesco allora allora ritorniamo a noi è chiaramente diventato un manicomio questo ma nell'ultima cioè nell'ultimo paio di settimane perché me lo ricordavo me lo ricordavo folle ma così è veramente è colpa mia quanto pare vince è tutta colpa di Giordana sottoscrivo tutta colpa anzi Giordana ha incentivato questo passaggio ma non è vero mi ha detto per favore vuoi far passare più vocali sui trans briglie briglie sciolte sessismo body shaming cat calling gerbling allora non so fischiare volevo fare cat calling ma non ci riesco ma sei serio davvero non sei ma adesso guarda rifischia lo vedi guarda guarda questo punto qui di Alessio gli si è completamente modificato da quando l'hanno tirato è diventato imparazzano ti sono venuti di zigomi lo sai di chi della modella che non mi ricordo lì come si chiama quella mora che stava con Corona come si chiama quella zoppa la Moric no l'ex moglie la Moric ti sono venuti di zigomi di Nina Moric Alessio sono di zigomi di Nina Moric incredibile allora arriviamo a questo secondo io non so chi è che sta facendo la regia ormai avete cambiato i nomi poi il manicopio state facendo un casino che la metà basta volevo vedere gli zigomi volevo vedere ritorniamo ritorniamo a noi seconda questione e 3 2021 facciamo il punto facciamo il punto perché perché che è successo è successo che praticamente siamo passati da un eccesso quello dell'anno scorso in cui praticamente dal primo giugno al 31 agosto hanno fatto 65.000 eventi che non si capiva più un cazzo con dentro questo questo ombrello della Summer Game Fest di Jeff Kigli dal reveal del DualShock a Tony Hawk poi un po' di Microsoft poi un po' di Ubisoft fatta tre volte quella di Ubisoft hanno fatto un casino quest'anno hanno fatto il casino al contrario ovvero hanno scelto di prendere una settimana e infilarci dentro 75.000 conferenze tutte senza una data senza un orario praticamente cioè con questo quest'anno ho detto sai cosa ci sono anche le conferenze di Warner Tech 2 di Capcom però la data l'orario non lo sa nessuno infatti io ho mandato un fantastico meme nella nostra chat dei user l'altra sera quello di Sailor Moon esatto quello di Sailor Moon dove c'è Milord che arriva e dice ecco qua ci sono tutte le conferenze del Trial 2021 e se il loro buono risponde ma non ci sono le date e Milord se ne va e mi sembra abbastanza eloquente è molto veritiero quindi inizio da da voi ospiti inizierò partirò da Tevince è più bello e se stava meglio quando si stava peggio o se sta meglio adesso? Allora a livello organizzativo si stava meglio quando si stava peggio nel senso che è diventato un dramma totale e voi lo sapete benissimo perché stiamo organizzando tutta la scaletta ma ci sono 8 miliardi di buchi perché non sappiamo a che ora fissare gli appuntamenti però io preferisco molto di più così cioè molto più denso e sarà una settimana in cui ci ammazziamo sicuramente tantissimo a livello lavorativo però ci divertiamo sicuramente sicuramente di più rispetto all'anno scorso che era molto più diluito e io spero che al di là del chiaramente hanno ricepito il feedback dell'anno scorso che era tutto estremamente rare sì sì era poco condensato e quindi ci avevi da maggio a fine agosto perché poi finiva con la Gamescom ci avevi tutti questi piccoli eventi che hai menzionato prima invece adesso è molto più dei tre è molto più l'idea dell'eventone di quella settimana di quella decina di giorni piena di annunci quella cosa che speravamo fosse finalmente caduta invece ritorna fuori dalle tombe esatto senza senso completamente senza senso no allora sarà 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 sicuramente divertente per i ragazzi in chat e a questo si aggiunge si aggiunge tutto il il post e il pre perché finora comunque gli streaming l'abbiamo visto all'inizio dell'anno ci sono stati i publisher si sono preparati per attrezzarsi da quel punto di vista quindi appunto si menzionava pure Bandai Namco che già era un nome che era spuntato fuori qualche mese fa con i rumor non mi ricordo più com'è il nome quello che avevano brevettato che si rumoreggiava fosse il nome del loro del loro evento però adesso ce li hai tutti condensati per spiegarti cos'è che arriva nella seconda metà dell'anno perché c'è questo enorme punto interrogativo che da parte di molti publisher non ha idea di cosa di cosa andranno a pubblicare quindi questo sarà sicuramente però scusa Vincenzo il bello il bello della diluizione era proprio il fatto che potessi avere l'annuncio metabolizzarlo poterne parlare serenamente approfondire gli argomenti in rubriche non come la nostra ma invece adesso ci troveremo due settimane in cui gli argomenti si accavallano non si capisce un cazzo non sai come coprirli e poi a luglio c'è l'eplay e a luglio c'è l'eplay potevano tranquillamente diluire nelle prossime quattro settimane sei settimane con grandissima tranquillità prendersi il loro tempo e il respiro perché 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 pure per me è meglio questa cosa condensata perché si concentra l'attenzione della gente pensavo stessi dicendo che volevi andare al mare a luglio e quindi non volevi rotture di scatole che è anche la mia motivazione principale allora secondo me adesso sappiamo che ci sono degli eventi fissati per luglio per fine agosto però se ne aggiungeranno sicuramente degli altri non avranno ovviamente la densità di questa settimana di E3 indubbiamente l'E3 ha comunque ancora un po' di rilevanza lo dimostra tutto questo attaccamento alla settimana prossima però a me piace che ci sia anche l'evento mi piace che ci sia anche il momento così come a fine a fine anno c'è il momento dei The Game Awards l'E3 rappresenta un po' una settimana da attendere e poi avremo modo di metabolizzare mi piacciono entrambe le cose sia il fatto che avremo mesi in cui succede sempre qualcosa mentre prima avevi mesi in cui non succedeva nulla c'era l'E3 poi c'era la Gamescom c'era il TGS ma da luglio a giugno non succedeva niente adesso insomma da luglio a giugno c'hai degli state of play i direct gli streaming Xbox e poi c'hai la settimana dell'E3 che è molto molto densa a me non dispiace devo dire anche a livello lavorativo perché rappresenta una sfida un momento per svegliarsi poi sono d'accordo che non ti dà tempo di metabolizzare e quindi starà a noi nei giorni e nelle settimane successive recuperare quelli che sono gli argomenti più caldi questa scia lunga delle tre poste tre alla fine non va un po' a danneggiare la Gamescom che comunque stava guadagnando sempre più importanza non ci si arriva un po' scarichi lì a quel punto che tra l'altro è stata confermata essere solo in digital non ricordo come è confermata digital dovrebbe essere ibrida no no hanno confermato che anche quest'anno sarà solo avevano detto inizialmente che era ibrida e poi dopo invece hanno confermato qualche settimana fa che sarà solo ed esclusivamente digital e non mi ricordo se erano uscite le date lo sapete precise della Gamescom in questo momento della Gamescom mi pare di sì sì anche dell'opening night live ok ok perfetto appunto la solita conferenza iniziale sì di quella cosa lì qual era la tua domanda però Francesco perché me la sono dimenticata e non ti vorrei no se in qualche modo questa scia lunga da danneggiare l'importanza della Gamescom che comunque prima c'era quella pausa avevi comunque una selezione di giochi magari un po' diversa ma adesso alla fine è tutto in continuità beh la Gamescom era il momento principalmente in cui i giochi si provavano quindi per me ha già perso per me la Gamescom ha già perso senso nel momento in cui è digital cioè diventa sì diventa un'ennesima vetrina di presentazione e effettivamente l'onda lunga delle tre o comunque di tutti questi annunci può effettivamente può effettivamente andarlo a danneggiare ma credo che sia lo stesso problema in cui si stanno trovando anche i festival del cinema leggevo di come di quante discussioni ci sono state per le selezioni tra Cannes e Venezia eccetera eccetera quindi è più o meno è più o meno lo stesso problema io sono no che voglio fare anche io una domanda Vincenzo ma secondo te l'onda lunga di tutti questi eventi potrebbe danneggiare la grande valenza del Toyo Game Show che pirma non è il microfono non è il microfono Vincenzo che dici secondo te dicevo che quello è intoccabile cioè quello rimane in assoluto l'evento dell'anno purtroppo purtroppo non andandoci fisicamente si perde del tutto l'importanza esatto perché se ne parla tanto il Toyo Game Show solo digitale è proprio uno di quegli eventi che insomma ce lo ricordiamo rigorosamente in giapponese beh l'anno scorso l'abbiamo seguito quello di Sega lì col mangiare lì nelle pizze non mi ricordo quello di Capcom di Resident Evil era importante è stato veramente un momento di non ritorno un punto di non ritorno perdonami Gio ti ho no no percepivo una punta di sarcasmo no ma poi ti ha interrotto per una roba importante un po' importante esattamente esattamente era molto importante no allora però mi piacerebbe su quello che ha detto Gio è assolutamente vero la Gamescom era una cioè è una fiera consumer è famosa per essere la più popolosa insomma la più grande credo la più grande a livello a livello di di persone insomma di pubblico credo sia la fiera più grande a livello mondiale credo secondo me ma tranquillamente ma di pubblico a livello di pubblico sì non soldi fuori dei videogiochi non so non soldi fuori dei videogiochi no di videogiochi sicuro di videogiochi sicuro non soldi fuori dei videogiochi quali siano le fiere più grandi del mondo vai pure no mi piacerebbe pensa solo Lucca Lucca fa molto più della Gamecom no no Gamescom faceva più di Lucca mi piacerebbe mi piacerebbe si concretizzasse quella quell'idea di far provare alle persone attraverso il cloud gaming i giochi quella roba lì potrebbe essere una cosa figa questa o demo da scaricare o via cloud gaming perché comunque noi lo sappiamo benissimo perché ormai è diventata una come dire pratica quotidiana no quella di provare i giochi in anteprima tramite streaming cazzo ridi cioè Alessio che naviga è veramente mio nonno che si avvicina allo al calcolatore che cerca di guardare veramente sembra io me lo immagino col monitor a fosfori verdi che sta lì che si avvicina quando scrive pare mio nonno proprio quando si mette a cercare una roba su internet scusami ma non posso resistere perché pare mio nonno si vergogna come un cane ho detto vabbè stanno dicendo un sacco di picchiate aspetta che cerco si avvicina entrato dentro al monitor vai no niente non è il microfono purtroppo un cazzo un cazzo la questione è un cazzo semplicemente mi avvicino perché ho il cazzo di microfono davanti e quindi lo devo scavalcare per vedere i tasti che sto scrivendo visto che io non sono un digitale ma perché voi scrivete tutto il giorno ma di che parliamo le dita che si muovono perché se no ho paura che ha perso le maniche perché non ha il senso del tatto un cavallino di ruzzutiaco sta perdendo tutti i sensi uno dopo l'altro adesso gli è partito il tatto vai vince perdonami questo semplicemente e mi aspetto mi aspetto che ci saranno dei momenti in cui proveremo ora non so se in streaming oppure alla maniera tradizionale proveremo dei giochi cioè proveremo come utenti proveremo dei giochi in anteprima a me questa cosa a me questa cosa spaventa un po' però sul sul lungo periodo nel senso che tutto questo stop per la pandemia tutti gli eventi digital eccetera eccetera hanno dimostrato che queste cose possono essere fatte già comunque i publisher avevano avuto un assaggio di come appunto utilizzare un direct uno state of play un edxbox ti permette di tagliare tutti quei costi invitiamo tutti i giornalisti a fare la giornata a provare il gioco eccetera eccetera però io mi ricordo che i momenti più importanti delle tre della gamescom sono stati proprio i momenti in cui noi provavamo i giochi quindi a me preoccupa il fatto che questa cosa prenda piede in modo estremamente piacevole estremamente utilizzato da parte di tutti rimanendo però monkey da questo punto di vista cioè per me uno dei momenti indelebili degli ultimi anni è stato Antonio Moro che ci ha raccontato durante non mi ricordo più quale gioco stava guardando e che ha chiesto se per favore lo sviluppatore poteva far girare il personaggio era di last of us esatto e gli ho chiesto puoi far fare un giro su se stessa a Ellie e tipo il silenzio all'interno della presentazione era la demo esatto cioè quelle cose non stanno succedendo più non che devono succedere per forza però insomma a me sembra uno step importante allora non c'entra niente però vi voglio aggiornare sulla mia ricerca il record di presenze si attesta a Lucca per attorno alle 500.000 mentre Gamescom arriva a 370.000 ma c'è la gabola perché Lucca dichiara 500.000 presenze ma 250.000 biglietti venduti perché come sai è accessibile da un sacco di gente che non compra il biglietto quindi effettivamente si potrebbe discutere aggiungiamo pure che 370.000 dentro una fiera non versus Lucca che è una città comunque è un numero comunque abbastanza impressionante pensare là al coin mess 350.000 persone sì con un ricercolo probabilmente comunque i pisani dicono che la Gamescom è molto più figa i pisani lo dicono certo no allora ne voglio approfittare intanto mentre stavate dicendo abbiamo un bellissimo articolo che vi consiglio di andare a leggere su multiplayer questo tutte le conferenze di eventi che Tommaso sta tenendo aggiornato 23 su 24 in realtà ma voi lo seguirete alle 3 di Paolo sì adesso lascerò lascerò la chiusura poi a Vincenzo Giornano a raccontarci a grandi linee quello che andremo a fare vi voglio giusto far vedere così velocissimamente quelli che sono gli eventi c'è questo Indy Live Expo con cui praticamente inizierà questa notte Vincenzo alle 24 e andrà avanti fino a tutto domani alle 18 per fare per seguire questo Indy Live Expo perché poi seguirà alle 17 invece il Guerrilla Collective che anche quest'anno è diviso in due parti il primo è sempre domani e l'altro è sabato prossimo domani lo seguono scusa domani lo seguono Alessandra e Luca sul nostro canale anche l'Indy Live Expo no no solo il Guerrilla questo non lo segui Vincenzo l'Indy Live Expo quello di notte non lo seguo non lo seguo sei sicuro anche se ingrandiscono l'immagine adesso lo seguo allora adesso mi è venuta proprio voglia di seguirlo scusa ma che gioco legge l'ha di la scalia che gioco ha messo Children of Morta Children of Morta beh è figo Children of Morta non ti va bene la scelta di Children of Morta allora io invito sempre i nostri utenti a seguirci perché poi sono quegli eventi in cui si scoprono tantissime perle e giochi bellissimi però l'ultima volta però l'ultima volta che ero io in live a seguire non mi ricordo se era il Guerrilla o l'Indy Live Expo eravamo in tre tipo quindi magari un po' più di partecipazione te compreso poi appunto diciamo il Guerrilla Collective i due sabati fra cui di solito sono titoli un po' più di nicchia qui abbiamo una bellissima immagine complimenti a Tommaso per la scelta di questa immagine terrificante di Baldur's Gate 3 che potrebbe essere qualsiasi gioco brutto tranne che Baldur's Gate 3 chiaramente in questa immagine qui poi si inizierà a fare sul serio il 10 giugno alle 20 perché parte questo Summer Game Fest che è appunto questa roba fatta da Jeff Kigli che è un po' tutto e inizierà appunto alle 20 con questa sorta di kick off di quello poi che è le 3 vero e proprio l'11 giugno evento dedicato ai titoli Coach Media che proseguirà proseguirà dopo alle 22 con questo IGN Expo di nuovo 300.000 titoli anche qui che andrà avanti tutta la notte qui è bellissimo il Wholesome Direct come cazzo fai a chiamarlo Wholesome Direct che mi pare la vendita da Walmart non riesco a capire questa scelta insomma le 3 comincia il 13 giugno questo è il 12 giugno no il 12 giugno la sera 12 giugno spiega che cos'è l'Wholesome Direct non lo so chi si decide la vendita della grande distribut della GDO dove trova il latte è focalizzato è focalizzato sui giochi Wholesome i giochi Wholesome si definisce Wholesome qualcosa che ti fa star bene che ti fa stare in pace che ti tipo non so Alba potrebbe potrebbe essere considerato un gioco Wholesome sono tutti quei giochi Harvest Moon tipo ricchi di ottimismo che ti fanno stare bello cioè tipo la chill out per la musica bravo bravo bella questa cosa non la sapevo poi quindi ci sarai tu quindi è confermato Pierpaolo Greco o di trattare l'Wholesome sticazio però contemporaneamente ragazzi seguirò l'Wholesome Direct e scriverò il pezzo con la mia tastiera quella invisibile quindi sarà contemporanea la copertura ricordatevelo poi il 12 giugno alle 21 ci sarà l'Ubisoft Forward dove sappiamo già che ci dovrebbero essere quantità informazioni nuove su Rainbow Six Quarantine probabilmente si riparlerà ancora di Far Cry 6 aggiornamenti su Immagino Assassin's Creed Valhalla e così via poi c'è l'evento di Devolver Digital sempre il 12 giugno chiaramente senza orario potrebbe essere chissà prima di Ubisoft Forward dopo possiamo già dire che come ogni anno sarà l'evento migliore di tutti i tempi verissimo verissimo e sempre il 12 giugno ci sarà anche l'evento Gearbox Software anche questo sarà prima sarà dopo sarà durante non lo sapremo mai ma si arriva poi al grosso il 13 giugno evento Xbox e Bethesda 13 giugno alle 19 che sarà seguito perché non dici anche i giorni della settimana che giorno è il 13 giugno 13 giugno saremo arrivati a sabato credo sia domenica scusate domenica 13 giugno poi ci sarà il PC Gaming Show che hanno scelto teoricamente si parla che l'evento Xbox dovrebbe durare un'ora e mezza loro hanno scelto giustamente potevano un minimo organizzarsi per non farlo uno dopo la cioè più che altro secondo me a un certo punto si accavalla come al solito ma per forza ma sei appena detto che sei felice che hanno messo tutto in tre giorni perché ti contraddici in continuazione proprio perché c'era margine ecco in questo caso proprio perché c'era margine di farlo un'ora dopo di farlo a un altro orario non capisco il fatto di averlo accavallato così ma poi secondo te vince tra Xbox e Bethesda e PC Gaming Show alle 20 la gente cosa sceglierà di seguire secondo te il PC Gaming Show o Xbox e Bethesda così a occhio secondo me è l'Holsom Direct che starà continuando la replica la replica la replica e siccome siccome ricordiamo che il PC Gaming Show solitamente dura due ore e mezza tre ore anche tre ore e mezza si andrà chiaramente ad accavallare con l'evento di Square Enix che è alle 21 e un quarto poi Square Enix ha detto sai che facciamo facciamo alle 21 e un quarto questa cosa del 21 e un quarto non si sa perché hanno fatto questa scelta completamente senza senso dopodiché si finisce al giorno dopo il lunedì dove c'è il Future Game Show del 2021 vi piacerebbe sapere a che ora non lo sa nessuno come nessuno sa che ora è l'evento Warners Bros e Back 4 Blood titolo fighissimo ma nessuno sa che ora sarà quell'evento lì e al 14 giugno si finisce con questa banca forse Capcom non è stato ancora aggiunto da oppure no forse il 15 vabbè comunque il 14 giugno ci sarà l'evento di Take Two e anche qui andremo in bellezza perché il 15 giugno quello che dovrebbe essere l'ultimo giorno di E3 avremo il famosissimo Nintendo Direct che tutti stanno aspettando per vedere chissà qualcosa di nuovo del nuovo Zelda questo Switch Pro qualcosa del nuovo Pokémon eccetera eccetera e poi anche Bandai Namco Next che in questo caso potrebbe avere focus chissà speriamo su Elden Ring senza data Pierpaolo non fare il tagliaferri della situazione non parlare per attirare la gente fai peggio di Sony per attirare la gente a vedere il Direct parlando di Switch Pro che come abbiamo visto con Vincenzo l'altro giorno ci hai dichiarato ufficialmente nel cazzo di Twitter è vero sono solo giochi è solo esclusivamente software però potrebbe essere che però il giorno prima potrebbe annunciare potrebbero annunciare Switch Pro e allora a quel punto parlare del software di Switch Pro esatto esatto gli dirò una cosa Switch Pro verrà annunciato tutte le notti da questa notte esatto esatto o magari domani all'Indie Pop Game Exclusive che seguirà Vincenzo anche potrebbe essere e chiuderà il tutto Capcom chiuderà poi non lo sappiamo magari è la prima Capcom perché non ha orario appunto sempre il 15 giugno 15 giugno come lo scuso ma Bandai quindi è dentro il Summer Fest hai citato chi c'è nel Summer Fest è dei più blanardi tutto nel Summer Game Fest c'è anche il Tectonic di prossima settimana ragazzi abbiamo messo d'accordo con Jeff Kigli anche il Tectonic sarà dentro al Summer Game Fest dedicato al DualSense per PlayStation 5 bravissimo che cosa fai Francesco cos'è da un lato c'è un piccione dall'altro una cornacchia ma poi una cornacchia che ha chiaramente grandi problemi di deambulazione però sembrano tutte persone a cui ha avuto un ictus che hanno avuto un ictus incredibile vediamo Alessio che ci dimostra come sa fare il piccione visto quello l'ha imparato quando aveva 6 anni a scuola bravo ma tra l'altro Gio quando va a cena fuori con delle donne fa così per rimorchiare comincia a fare il piccione fa sempre così quando ci sono le briciole sul tavolo lui comincia a fare il piccione a rufolare è stato denunciato per il piccione esatto allora vi lascerò chiudere vi lascerò John Justice è tutta colpa mia vi lascerò a questi ultimi minuti ma che cazzo mi ha cambiato il nome me ne sono accorta adesso vi lascerò se non è ripetirla vi lascerò soltanto questo accenno per raccontarci ma multiplayer voi seguirete in qualche modo questa serie di eventi oppure finalmente evitiamo di fare delle live di sbatterci in quella settimana lì no no ve l'ha detto Vincenzo siamo tutti in vacanza settimana prossima no certo che seguiremo certo che seguiremo il cover come diceva Vincenzo stiamo dando gli ultimi ritocchi alla scaletta però sicuramente da settimana prossima quindi state attenti la caricherò a mezzanotte perché ho avuto delle lamentele lunedì lunedì mattina non c'era ancora a mezzanotte domenica ci sarà la scaletta online e potrete insegnarvi tutti gli appuntamenti come ha detto Pierpaolo sarà scaricabile su per tutte le maggiori piattaforme che gestiscono calendari per iCal per Google Calendar mi sembra che avessi detto questa cosa qua Pierpaolo come ha fatto iCal mamma mia come dici te iCal sei soltanto te Tim Cook iCal iCal già avete il calendario iCal vai scusate Vincenzo Vincenzo intanto stai ordinando già su Just Eat anche te stasera vince quindi confermiamo che sarà scaricabile la scaletta con le notifiche che potrete attivare sul sito nell'area dedicata alle 3 che sarà lanciata perché stai facendo tu questa cosa giusto Alessio te ne stai occupando tu alle 3 alle 3 poi alle spazio 3 no dai seriamente seguiremo tutto quanto ci possiamo aspettare tante live tanti articoli immagini e tanti video esattamente assolutamente vabbè vi vedo molto poco anche perché no anche perché oh la state vendendo bene eh anche perché possiamo dire che sarà possiamo dire che sarà le 3 migliore degli ultimi 20 anni grazie a noi guarda sarà addirittura un E4 questo sarà un E4 seguiti in diretta da multiplayer faremo delle live infinite moriremo in diretta soltanto per il vostro piacere cercheremo di seguire tutti gli eventi anche quelli minori e approfondiremo il tutto con delle live apposite e questo ci permetterà anche di chiacchierarne con voi voi ciuppitella gemkill capitan pop quel disgraziato di tseeker insomma io credo che questa sarà una settimana indimenticabile posso meglio di Mastrota vai anche perché cioè settimana prossima ok si ce ne tre però vorrei ricordare che il coverage quello basic i giochi che escono queste cose qui non è che finisce quindi ci sarà molta molta roba di cui parlare e sappiamo tutti che fra pochissima arriverà un gioco molto importante ricordiamo tutti quindi assolutamente seguita è terribile non ho capito una cosa ma lascialo parlare sono in tutto questo che c'è un evento non c'è uno state of play in questi giorni no non c'è nessun evento riconfermo quello che continuavo a dire anche settimana scorsa che visto lo state of play dedicato a horizon e viste chiaramente queste grosse interviste a Herman e a Holst secondo me Sony se ne riparla allora o rifà in stile Returnal che il giorno di uscita di Ratchet & Clank fa lo state of play sui prossimi giochi ma per me non avrebbe senso viste le interviste adesso oppure più realisticamente secondo me con Sony andremo a sbattere direttamente luglio agosto cioè molto dopo il giugno io continuo però ad essere convinta che durante Summer Game Fest vedremo il trailer di Uncharted io continuo ad avere questa questa convinzione mi piace mi piace mi piace pensarlo intendi il film anche io adoro la pace nel mondo il film sì il film ci può stare tu Vince che ne pensi tu pensi che andiamo a sbattere luglio, agosto, settembre o pure te infatti luglio secondo me è credibile non ci credo in quella cosa dell'experience troppo silenzio che sta arrivando che sta arrivando questo mese io sono d'accordo con Vince sì che quindi è da essere d'accordo con me perché abbiamo detto la stessa cosa sono con Vince con te no perfetto allora niente che faccio salutiamo gli ospiti volete faccio le ultime cinque domande o volete che chiudo mandare le domande ma chiudiamo sta cazzo di live sono 17 e 40 allora come faccio a mandare le domande e chiudere la live mandi le domande e chiudiamo è quello il bello ok vado aspetta scusami adesso non ti volevo disturbare ti chiedo scusa ciao amici la scorsa settimana parlando di Giancarlo Esposito vi siete scordati di dire che nel 2015 a Prato quando era in vacanza in Toscana gli hanno rubato la vice letta quindi spengere ecco posso andare avanti ma com'era il doc da Modena visto dai silenzio il doc da Modena vista la vicinanza volevo proporre ad Alessio di andare una sera a bere una birra e parlare un po' di videogiochi ah scusa tu non giochi allora parlare di figa ah no scusa ma almeno la birra la bevi guarda ti fai il piccione amico ti fai fare il piccione e godi tutta la serata questa era molto bella questa era molto bella questa qui però possiamo ammettere almeno la birra la bevi Alessio si con piacere e di chi parlate ovviamente di chi parlate se non parlate di videogiochi di figa di chi parlate ti guardi negli occhi sai le prime volte comunque parli poco e fai molto insomma perché Alessio fa l'amore come a Cocoon cioè Cocoon dalla parte all'altra della piscina vado avanti secondo me io sono Katsunori gli amauchi stavo seguendo il cortocircuito e sono indignato sono indignato dalle parole di Pianesani sul mio titolo glantulismo 8 col tale rispetto Pianesani altrimenti ti mando si cali a casa cioè quindi stavo facendo anche le imitazioni degli asiatici con la L raga sì sì assolutamente e poi della Brianza era nigeriano secondo me era il nigeriano dell'abrianza Alessio fa incazzare questa cosa sono di Bergamo sto parlando sto parlando non farmi mansplaining a me sta cosa fa incazzare perché mansplaining e quando il Paolo scopre il mansplaining non lo so neanche io non lo so neanche io cos'è il mansplaining ma che sta facendo quell'altro che cos'è il mansplaining è quando un uomo è quando un uomo interrompe una donna che sta cercando di parlare ma perché qual è la tipologia perché planning planning come l'agenda planning mi fate parlare allora io sto dicendo che mi fanno molto arrabbiare questi messaggi chat perché io reputo che siate tutte persone estremamente intelligenti e capace di tirare fuori un talento comico che non includa essere tipo so razzisti degli stronzi fare le battute guarda che secondo me guarda che stai guardando un altro canale su Twitch esatto non era questo non è possibile non stai descrivendo noi io veramente non mi capacito cioè non potete fare delle battute che fanno ridere scusami giordana ma siccome io la stessa cosa la faccio anche con Pierpaolo come si chiama quando la faccio con Pierpaolo è comunque sempre mansplaining tra l'altro aspetta perché è come explaining no però in realtà non è propriamente come state dicendo perché io sto leggendo wikipedia in realtà è più l'atteggiamento paternalistico di alcuni uomini ma anche delle donne intanto quindi diciamolo subito che vado in tre pilati che tendono a commentare o spiegare a una donna in un modo condiscendente troppo semplificato troppo sicuro di sé come faccio io con te che non capisci un cazzo non è l'interruzione non è l'interruzione mi dispiace darvi questa brutta notizia ma la pugno di dollari è impaurito perché dice stiamo perdendo qualità ragazzi quindi siete solo caffoni quindi siete solo caffoni te lo spiego un po' più semplice giordana te lo provo a spiegare un po' più vado vado dai silenzio riesco a passare messaggi veloci ciao a tutti e complimenti per il programma veramente sempre al top avrei una piccola domanda Alessio ma tu usi il bagno schiuma o l'olio extravergine di oliva? questa è anche interessante attualmente attualmente ho usato un tonico rinfrescante per la pelle all'olio d'oliva ah vedi quindi ci aveva azzeccato quindi ma per tutto il corpo o per no allora è tonico rinfrescante sulla faccia crema per il viso e crema per il corpo sono tre prodotti distinti mi piacerebbe tanto assistere a tu quando ti lavi che ti spalmi queste creme un po' dappertutto no 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 sono post doccia non sono eh ti fai la doccia e dopo ti spalmi queste creme un po' dappertutto ma tutto nudo o ti tieni l'asciugamano quando ti spalmi le creme? no perché soprattutto io lo faccio per le braccia per la parte superiore del corpo non mi metto creme sotto di solito se mi metto delle creme sotto è perché c'ho delle irritazioni in corso e sono curative che schifo veramente che tu ti lavi come gli uccellini no? rotolando nel terriccio che dolcezza vado avanti ciao ragazzi di multiplayer sono Topolino volevo ringraziarvi per tutto quello che fate ciao Pierpaolo con i tuoi capelli sempre l'amora ciao Francesco con il tuo carattere sempre molto pagato e mai incazzato ciao Pinesani per te nulla perché sei Pinesani ti è piaciuto questo questo Topolino? guarda un ritmo di comicità stravolgente un ritmo devo dire che il finale è stato molto anticlimatico però è vero molto sono d'accordo non aveva un'idea non aveva un'idea pure secondo me aspettavamo tutti l'idea invece no una delusione gli ultimi abbiamo finito anche oggi bruciate il topo bruciate il topo ragazzi comunque fai dai ragazzi comunque non pensate di cavarvela così noi vogliamo l'ultima puntata del cortocircuito da tre ore e mezza programmata da Alessio ma Alessio sta già preparando i cartelli per una grande nuova spiegazione ma scusate ma perché perché questa è l'ultima puntata del cortocircuito no no non ci sarà il cortocircuito settimana prossima non lo so forse pensa non so che dirti però adesso finisce finisce la stagione ricordati che il cortocircuito finisce sempre comunque la stagione poi riparte pimpante fra settembre e ottobre ma non è questa l'ultima puntata che era quella dove c'era caldissimo quella caldissimo con la baglietta sudata non è vero col collo sudato col collo sudato che schifo quella ancora tutta di nero che orrore che schifo veramente quello cioè proprio le ghiandole messe a casaccio quello sì 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 cioè gli escono liquidi da dove non dovrebbero uscire veramente ultimo messaggio e salutiamo sono passato una strada zona Roma-Est di Roma via Pianella quindi abbiamo scoperto che la Raggi segue il cortocircuito e nemmeno sbaglia la targa hai visto incredibile quella roba della targa del tuo amico Azzeglio era chiaramente un eroinomane del 72 vi ringraziamo tutti quelli che ci seguono da Zeglio e era andato là a comprare la roba per forza mentre passeggiava la sera a comprare roba allora ne approfitto visto che ho qui Giordano e Vincenzo ne approfitto per ricordarvi quali altre live ci sono quest'oggi barra domani allora fatemi prendere la scaletta eeeh cioè non posso ricordarmi tutte le memorie tu hai detto ne approfitti per ricordarlo tu tu hai detto ne approfitto per ricordarvi ricordacelo ok io sono già pronta alle 20.45 c'è ESL GT Sport Group Stage Day 1 e domani alle 17 c'è l'evento Guerrilla Collective la prima puntata come dicevamo prima seguiti da Luca e Alessandra al momento non so cosa c'è invece di domenica domenica l'ha ancora aggiunto ma vi posso dare questo sneak peek ci sarà alle 14 Aligi che gioca Solast Crown of the Magister che tra l'altro se non mi ricordo male ne parlavano al TG1 ieri sera di Aligi ma scusa però ti ricordi Pierpaolo nell'ultima live quando dicevo che Aligi ogni tanto si becca delle live sfigate gioca Solange la domenica pomeriggio se fa 30 se ci sono 30 stronzi ha fatto record lui la domenica s'annoglia non è uno sforzo pure secondo me sono d'accordo ma infatti ma infatti Solange parlo della performance parlevamo di performance sono sicuramente gioca Solange che è pure morto attenzione Giordana ci ha detto una cazzata attenzione Giordana ci ha detto una cazzata io vorrei rispondere al signor Nido 59 serino come la vecchia di un giorno in pretura la vecchia di un giorno in pretura tu non puoi parlare male della Petra e Luzzi in mia presenza ma chi è la vecchia di un giorno in pretura ma magari è vecchia è storica di un giorno in pretura e non si può parlare male di quella donna in mia presenza allora tu ma Terose è vecchia aspetta scusate Giordana tu hai veramente pensi che davvero che chi segue il cortocircuito abbia questo questa cultura loro si riferivano abbia il cervello abbia il cervello il microfono che simula la fellazio al microfono che ne sanno di chi lo presenta loro comunque comunque Roberta Petrelluzzi ha 77 anni ricordiamo la vecchia quindi comunque non è giovanissima anche se chiaramente la vecchia dai del vecchio o me dai del vecchio o me che ce ne ho 40 a te ho detto diversamente l'altro giorno di chi stavamo parlando chi era che aveva 60 anni Francesco nell'ultimo cortocircuito che ne parlavano quello di Far Cry 6 quello di Far Cry 6 Giancarlo Esposito che ha 65 anni cioè il pensiero che abbia 20 anni più di Alessio è chiaramente c'è chiaramente un problema uno che ha 20 anni più di Alessio ed è Giancarlo Esposito chiaramente quindi non ci può stare non so cosa è successo a Francesco quella roba ha sconvolto anche me cioè scusami Vince tu quando hai scoperto che ha 65 anni come ci sei rimasto no ho controllato pure io perché non ci potevo credere beh non è credibile Giancarlo Esposito e Alessio ce n'ha 40 cioè sembra veramente il padre di Giancarlo Esposito Alessio senza problemi potrebbe essere scusa però tu lo prendi in giro su queste cose perché sei un po' ossessionato e lui guarda che gli è successo se hai fatto il Botox andarlo da da Urtis quello è solo Alessio che riesce a farsi il Botox questa cosa qui allora ragazzi come al solito è stato un piacere enorme avervi qui che ci avete seguito per queste due ore quasi due ore di cortocircuito io ne approfitto per ricordarvi che ovviamente il cortocircuito come diciamo prima non andrà quasi sicuramente in onda settimana prossima perché venerdì potrebbe rischiare di cadere insomma seguite il calendario che pubblicheremo su multipliore.it slash live però presumibilmente potrebbe non esserci per via di tutto il caos il caos E3 male che va ritornerà ovviamente il venerdì successivo e dopodiché basta io ne approfitto per ricordarvi che questa puntata la potete rivedere interamente su Youtube più che su la potreste rivedere anche su Twitch ma per cortesia rivedetela su Youtube la trovate ovviamente sul sito bella etichettata la trovate facilmente e poi vi ricordo che lo potete anche la potete anche riascoltare interamente in versione audio o podcast su tutte le principali piattaforme podcast quindi Apple Podcast Google Podcast su Spotify ci sono arrivate un sacco di segnalazioni qui non so vince se avevamo visto avevamo risolto un sacco di segnalazioni che il podcast non è su Amazon Music in realtà noi ci appoggiamo a un service che dovrebbe metterle il podcast dappertutto non so come mai Amazon Music è escluso buttiamo un'occhiata un occhio sì esatto forse andrà abilitata a mano quante persone più che altro mi sorprendeva tre ok ho scritto tre su Instagram che mi hanno detto ma perché non siete su Amazon Music questa è la cosa non pensavo non pensavo ci fosse un seguito via Amazon Music si sono spattuti per scriverlo magari sono 30 magari che potrebbero vederlo sistemeremo chiedono il cortocircuito off però no scusami che tra l'altro se sono 30 persone ricordiamo che per quanto riguarda gli ascolti del podcast è circa il 50% di tutti gli ascolti del podcast quindi comunque non è da trascurare grazie a tutti grazie Alessio che si sta preparando chiaramente l'eroina e ci rivedi grazie Giordana grazie Vincenzo grazie Francesco grazie Alessio io sono Pierpaolo e ci rivediamo invece quanto prima seguito il nostro calendario su multipli.it slash live grazie bacio a tutti quanti non devo far caso Melandi bene no basta basta ormai la so questa qui non funziona più ciao